Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Direi che non appena siamo tutti pronti e sistemati possiamo dare inizio al Consiglio con l'esecuzione dell'inno di Mameli Grazie Grazie a tutti 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 Il consigliere Claudio Allasia è assente giustificato per motivi di lavoro così anche il consigliere Amagiu Il consigliere Bergese dovrebbe raggiungerci tra poco Così l'assessore Messa per motivi di lavoro ci raggiungerà più tardi Grazie a tutti L'assessore Bailo l'assessore Bailo l'ho visto in corridoio ma non è presente qua L'assessore Borrelli è assente per motivi di lavoro presente l'assessore Cravero l'assessore Cravero l'assessore Fogliato Nomino scrutatori i consigliere Ambrogio Astegiano Somaglia Grazie a tutti Non ci sono interrogazioni non ci sono mozioni ci sono invece alcune comunicazioni prego il signor Sindaco Buongiorno a tutti Ci sono alcuni lutti da segnalare dall'ultimo consiglio anche se è avvenuto pochi giorni fa Il 21 settembre è mancata la mamma della dipendente Balocco Giuseppina della ripartizione finanziaria La signora Lidia Stroppiana in Balocco Tra il 20 e il 21 settembre è mancato il ragionier Vivaldi Giuseppe Vivaldi per tutti noi più noto come Pippo Storico segretario generale di Alba ma che è anche stato segretario nel nostro comune a Scavalco negli anni dal 95 al 98 E in questi successivamente ha svuoto delle funzioni molto importanti sia nel settore idrico e sia nel settore dei rifiuti Con il ragionier Vivaldi viene a mancare una figura veramente storica, importante Una persona con una competenza e una capacità a cui molti attingevamo quando avevamo dei dubbi, delle incertezze per la sua lunga esperienza Abbiamo fatto pervenire alla vedova le condoglianze ed era presente per il comune il assessore Messa Stamattina ci sono stati i funerali del cavaliere Domenico Asselle un apprezzato artigiano pasticcere, anzi direi maestro pasticcere che è uno dei fondatori, un socio fondatore dell'Unione Nazionale Veteranica dello Sport della sezione di Bra Era presente qui una sua opera che aveva realizzato per l'Unità d'Italia Nelle notizie invece di interesse generale intanto auguriamo buona pedalata al consigliere Panero che è in partenza e quindi oggi sono io a dirgli che si metta l'impegno e ci c'è la rua e così arriva a Roma l'ultimo tratto è in grado di superare e dare la pastina a quelli che sono rimasti dietro ma queste sono le battute dei ciclisti dilettanti allo sbaraglio di cui mi annovero insomma di far parte tra l'altro neanche più praticante un'altra notizia gli auguri invece che sia una manifestazione che si svolga in maniera importante come già avvenuto lo scorso anno il prossimo 7 ottobre con la Scuola di Pace la consigliera Marina Isu con la Scuola di Pace intitolata Toni Lucci rappresenterà Bra alla Marcia per la Pace per Ugi Assisi e porterà il gonfalone della città e l'ostruzione delle città della fraternità come gruppo più numeroso sono 52 le persone i baidesi che hanno aderito al Pullman per questa manifestazione è veramente molto importante ringraziamo la consigliera per l'impegno che ha profuso nell'organizzare grazie al sindaco il consigliere Panero ha chiesto la parola prego grazie buonasera a tutti solo per ringraziare il sindaco domani inizia questa bella avventura che finirà sabato un appuntamento alle ore 12 ci aspetterà il presidente della Repubblica italiana e cercherò di portare il simbolo della nostra città con onore e portare un pezzo di bra alla più alta carica dello Stato velocissimamente volevo anche ricordare una cosa che è successa ieri che mi ha colpito particolarmente c'è stata diciamo la festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Enzo era presente vedo che sorride l'assessore Fogliato è stata proprio una manifestazione importante di come una persona che per più di 20 anni nel suo settore ha lavorato in questa città vedere quante persone ieri erano presenti fa capire come questo Don abbia fatto dei rapporti umani il suo scopo di vita dopo più di 20 anni mi sono avvicinato non ero ancora a due metri da lui e lui è già eccolo qua sei ancora di bandito quindi senza dirgli niente a più di 20 anni di distanza e vedevo che faceva così con tutte le persone che si avvicinavano questo fa capire lo spessore del personaggio e ha sicuramente scritto un ruolo importante per più di 20 anni nella città di Brau grazie grazie a lei consigliere consigliere Milazzo prego grazie sulla giornata di ieri mi ha già anticipato il consigliere Panero quindi non mi ripeto desidero invece aggiungere questo un ringraziamento ad alcuni gli organizzatori nostri concittadini dell'associazione Slow Food un ringraziamento perché perché grazie a loro e al Salone del Gusto a Terra Madre in modo particolare Bra ha raggiunto notarietà in molti paesi del mondo quindi questo penso che faccia onore a loro ma anche alla nostra città e desidero anche ringraziare i cittadini ebraidesi che si sono resi disponibili ad ospitare nelle loro case i delegati per Terra Madre delegati che divengono dai numerosi paesi del mondo veramente a Bra in modo particolare c'erano i nigeriani gli ugandesi ma anche altri anche dell'America Latina e penso che questo faccia onore veramente alla nostra città proprio come appunto è stato per il santo Cottolengo sempre disponibili sempre pronti ad aprire le proprie case grazie grazie anche a lei consigliere Elena prego la parola grazie presidente buonasera a tutti anche noi volevamo come ha già detto bene il sindaco ricordare associarsi appunto alla alla figura alla figura di la roggeniera Pippo Vivaldi che è stato veramente come ha già ben sottolineato il sindaco una figura molto importante per il nostro territorio io ho avuto il piacere di collaborare con lui appunto quando è stato segretario a Bra ma anche in alcuni consorzi nel consorzio rifiuti soprattutto anche nel consorzio di San Michele che è un consorzio che veramente bisogna dire veramente un grazie a ragionieri Vivaldi perché effettivamente era una figura che molto dedito al lavoro molto grazie alle sue conoscenze istituzionali al suo modo di essere è riuscito veramente per il territorio a fare del bene veramente a tutti era una persona molto riservata però dedita al lavoro io me lo ricordo che passava delle ore in ufficio ed era sempre disponibile per qualsiasi cosa e poi aveva una grande competenza dal punto di vista amministrativo e sapeva veramente coniugare bene i desideri tra virgolette delle amministrazioni con le cose burocratiche che ci sono che giustamente i segretari i dipendenti devono coniugare questi due aspetti la figura del ragioniere Vivaldi veramente è stata per il nostro territorio una figura molto importante vi chiedo scuso presidente noi l'altra volta giustamente il sindaco aveva ricordato la figura anche di Bruno Campi noi poi ci siamo un attimo lì e non abbiamo volevo soltanto veramente ancora aggiungere solo due parole perché con con Bruno Campi abbiamo trascorso quando è stato vice sindaco io e il collega Somalia siamo stati assessori erano dei novellini e ci ha fatto anche un po' da papà perché effettivamente Bruno Campi era come si può dire era veramente il buon padre di famiglia sempre ascoltava tutti una parola per tutti e poi aveva anche una grande esperienza e lo parlo anche dal punto di vista dei professionisti tutti bene o male i colleghi lo ricordano anche quando era cancelliere in pretura era una persona che è qui molto equilibrata che cercava sempre di 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 mettere bene che le cose andassero a posto senza andare a scontrarsi era veramente una persona che io poi nell'ultimo anno quando negli ultimi alla giunta del quando c'era il sindaco Scimone abbiamo veramente avuto modo di collaborare fianco a fianco in quanto eravamo tutti e due consulenti del sindaco e veramente ho imparato molto da lui come uomo e come persona quindi era doveroso da parte nostra e anche dal gruppo di del consigliere Marengo ricordare queste due importanti figure grazie grazie a lei consigliere condivido anche io le parole a ulteriori testimonianze del ricordo di Bruno Campi consigliere Somaglia prego grazie presidente brevemente ovviamente mi unisco alle parole che ha poc'anzi espresso Marco sia nei confronti del regno Ervi Valde sia soprattutto nei confronti dell'amico Bruno Campi due parole per ricordare l'ha ricordato bene il sindaco l'amico Domenico Selle che vorrei ricordare in qualità di vicepresidente dell'associazione nazionale veterani dello sport ma soprattutto come amico fraterno forse una parola grossa ma essendo molto amico di mio papà sovente mi ha anche dato dei consigli su come prendere la vita un'ultima comunicazione che volevo fare a tutto il consiglio l'amico avvocato Marco Lamberti che molti di voi conoscono anche come persona naif eccentrica mi ha pregato di estendere l'invito alla presentazione del suo romanzo che avverrà domani sera alle 18.45 presso il Caffè Cavour si scusa per non aver inviato degli inviti ufficiali mi ha pregato di farlo in maniera istituzionale e amichevole grazie va bene grazie a lei penso che ci sarà da parte di qualcuno la possibilità di essere presente a questo incontro pomeridiano ancorché comunicato come dire 24 ore in anticipo però cercheremo insomma cercheremo di essere presenti grazie va bene se ho capito bene le comunicazioni sono finite va bene allora proseguiamo con l'ordine del giorno e passiamo al punto 2 ottava variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 145 del 31 luglio 2018 illustra l'assessore fogliato grazie variazione di bilancio illustrata nell'ultima commissione finanze e tributi pertanto richiamo gli aspetti principali abbiamo un recepimento per quanto riguarda la ripartizione dei lavori pubblici un recepimento di un contributo di 110 mila euro dalla provincia di Cuneo per l'asfaltatura di via Cuneo inoltre nell'ambito della stessa ripartizione uno spostamento di 50 mila euro in precedenti variazioni di bilancio 50 mila euro erano stati spostati dall'edilizia sportiva a rimpinguare la spesa per la nuova pista d'atletica e il campo da calcio al momento purtroppo non si può andare avanti con questi due progetti pertanto i 50 mila euro ritornano in questa variazione di bilancio 20 mila euro per manutenzione di edifici perciò lavori pubblici in generale e 30 mila euro per impianti sportivi nell'ambito dell'ottava variazione di bilancio incominciamo a toccare con mano quello che vuol dire la convenzione delle politiche sociali cioè il fatto che nel nostro bilancio intervengono le variazioni di bilancio che toccano tutto quanto la convenzione perciò toccano anche realtà di altri comuni abbiamo uno spostamento di capitoli per quanto riguarda 35 mila euro per un potenziamento di intervento sul progetto di assistenza a fasce deboli diciamo che come vi avevo detto l'altra volta questi capitoli si è inentrata che un'uscita sono identificati perché hanno una numerazione particolare in ultimo abbiamo chiamiamo una partita di giro cioè nel senso una maggior spesa di 12 mila euro per la centrale unica di committenza ma compensata dall'introito da altri comuni per il rimborso sempre di 12 mila euro grazie all'assessore non mi pare ci siano interventi quindi se non ci sono interventi io pongo in votazione numero 2 quindi seguiamo la procedura segnaliamo la presenza dovremmo essere in 16 no qui allora siamo no scusate siamo 14 sì sì siamo 14 16 più 1 meno 3 allora la presenza è stata segnalata vero? questo è già il voto votazione chiusa allora delibera approvata con 9 voti favorevoli e 5 astenuti passiamo alla proposta numero 3 nona variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ratifica deliberazione dell'aggiunta comunale numero 166 del 4 settembre 2018 illustra ancora l'assessore Fogliato direi che è una variazione di bilancio molto articolata e nel nostro tempo molto interessante vengono movimentati diversi capitoli diciamo che un po' si anticipa quella che è la classica variazione di bilancio che normalmente avviene nel mese di novembre dove vi sono movimentazioni di capitoli che toccano la realtà del personale di utenze varie ecco in questo caso abbiamo diversi capitoli movimentati sempre in quello che vi dicevo prima della convenzione territoriale e servizi sociali in particolare abbiamo un recepimento del contributo del ministero delle politiche sociali di circa 250 mila euro per il progetto contrasto alla povertà tenete detto prima tenete conto che questo tocca sia il nostro comune ma anche gli altri dieci comuni poi per sempre nell'ambito della ripartizione servizi alla persona però che riguarda in questo caso il nostro comune abbiamo un aumento della dotazione del fondo per la povertà farmaceutica e alimentare di 8.500 euro che ha come contropartita donazione da privati sapete che ormai da diversi anni vi è la possibilità da parte di privati di finalizzare il proprio contributo su specifici capitoli andando avanti sempre nell'emergenza in questo caso partiamo di emergenza casa emergenza abitativa una maggior spesa di 71.000 euro per emergenza casa 7 che è un progetto nato all'inizio con la dotazione della fondazione cassa di risparmio di Cugno in aggiunta si è aggiunta anche la fondazione cassa di risparmio di Bracco un unico regolamento e questo già darato anche alla lungimiranza e all'intelligenza della presidente della fondazione cassa di risparmio di Bracco che per rendere molto snelle e operativo anche l'intervento della fondazione cerebra ha aderito al regolamento della fondazione cassa di risparmio di Cugno con 71.000 euro che serve in questo caso per evitare lo sfratto c'è un contributo sui affitti finalizzati a evitare lo sfratto purché dall'altra parte il padrone di casa accetti il contratto a cannone concordato ricordate che nel nostro regolamento del cannone concordato noi abbiamo un'aliquota veramente molto molto bassa agevolata per quanto riguarda l'IMO oltre che poi il vantaggio fiscale che ne deriva dallo Stato sempre nella stessa ripartizione un incremento di spesa di circa 42.000 euro per la sostituzione personale asilo nido per collocamento a riposo congelo straordinario e trasferimento di personale dipendente inoltre il recepimento di un contributo regionale di 10.500 euro per i saloni del libro per ragazzi in ultimo il recepimento del contributo di 8.000 euro del ministero degli interni come era già avvenuto l'anno scorso è un contributo che percepiscono i comuni in cui vedono la presenza dei richiedenti asilo sono 500 euro per ogni richiedente asilo vi è in base al regolamento la possibilità di impegnare i soldi anche per operazioni diverse ecco da quello che è lo strezzo tema dell'accoglienza come già avvenuto lo scorso anno gli 8.000 euro sono finalizzati per il progetto nido e micronido in questo modo rimangono invariate per tutti i cittadini indipendentemente dal reddito le tariffe del nostro sistema del nostro sistema nido passiamo ora alla ripartizione dei lavori pubblici una maggior spesa di 100.000 euro per la costruzione di un ascensore presso la scuola a Montalcini un maggior spesa di 70.000 euro per riscaldamento degli edifici comunali chi ha avuto modo di vedere il PEC ha visto che sono movimentati diversi capitoli in questo caso come vi avevo detto anticipo un po' quello che veniva già tutti gli anni nel mese di novembre ed è dovuto anche all'aumento delle aree degli uffici riscaldati nell'ambito del 2018 maggior un ritorno perché in passato vi era stata una variazione di bilancio di 10.000 euro in uscita dal capitolo quartiere frazioni ritornano vengono rimpinguato questo capitolo così pure gli altri 20.000 euro che mancavano per l'edilizia sportiva vi ricordate nella precedente variazione erano tornate 30.000 euro però ne erano uscite a suo tempo 50 in questa variazione di bilancio ritornano nella dotazione dell'edilizia sportiva i rimanenti 20.000 euro 15.000 euro per la costruzione di un ponte pedonale nella frazione Pollenzo in ultimo inteso ripartizione lavori pubblici il recepimento di un contributo di 50.000 euro della società Baratti Milano per la riqualificazione di piazza Piazza Roma passiamo ora all'area degli staff abbiamo una maggior spesa di 45.600 euro di giro alla provincia di Cunno per violazione del codice della strada sono somme di sua competenza inoltre 12.000 euro per affidamento in carichi legali per quanto riguarda la ripartizione servizi generali da segnalare 20.000 euro di trasferimento allo Stato per diritti di segreteria per la carta di identità elettronica tenete conto però che questi 20.000 euro sono compensati in entrata da 40.000 euro di maggiori entrate per i diritti di segreteria il 50% poi deve essere girato allo Stato ripartizione finanziaria anche qui come normalmente avviene nel mese di novembre movimentati alcuni capitoli che riguardano le utenze di energia elettrica per 16.000 euro l'istituzione di un capitolo una maggior spesa per interessi e ammortamento quota capitale di 20.328,26 per la prima rata del mutuo del credito sportivo mutuo che era stato acceso e ottenuto per l'intervento i due interventi purtroppo per nell'ambito dei mutui opere pubbliche funzionano in questo modo diversamente dai mutui privati dove l'erogazione avviene quando si fa la compravendita o si costruisce ecco queste cose qui qui avviene l'erogazione indipendentemente se in quel momento l'intervento è iniziato o meno voi sapete conoscenze di tutti che per ricorso nel secondo classificato vi è il ricorso pendente le opere non sono potute iniziare però comunque il mutuo lo dobbiamo pagare la prima la prima rata abbiamo 50.000 euro di incremento per il fondo compensativo Tari ecco questo ritengo che sia insieme ad altri aspetti che poi dopo verrò a parlare dopo un punto molto importante di questa variazione di bilancio voi sapete che nel dicembre quando abbiamo illustrato in questa sede il bilancio previsionale abbiamo anche illustrato il fatto che ciò che avevano fatto altri comuni della provincia di Cuno tutti i comuni a partire i più grandi dal 2013 di applicare integralmente la normativa per quanto riguarda la suddivisione della parte variabile delle spese della raccolta e smaltimento rifiuti noi l'abbiamo applicata solo da quest'anno e pertanto c'è stato un lasso di tempo in cui una parte maggiore delle spese della parte variabile venivano spalmate sulle famiglie a vantaggio delle attività produttive andandoci ad allineare per il bilancio previsionale 2018 in cui già da allora vi dicevamo che nel corso dell'anno vi sarebbe stata la nuova gara per la raccolta rifiuti vi è stata una diminuzione della Tari a carico delle famiglie in media media perché poi dipende dalla composizione del nucleo familiare dipende dalla superficie ecco però in media torna un 10% di riduzione contro un aumento per le attività produttive in questo caso un aumento che si aggirava anche un 13 14 15% poi mi rendo conto che le percentuali in termini assoluti non è lo stesso peso il 10 e il 13 14% se parliamo in termini assoluti vi è stato un aumento uno spostamento di circa 234 mila euro dalle famiglie alle attività produttive in quel periodo illustrando il bilancio previsionale alle associazioni di categoria l'amministrazione aveva preso l'impegno di costituire un fondo compensativo comunque già in essere da diversi anni nei nostri capitoli di costituire rimpolpare il fondo compensativo in modo da compensare in modo importante significativo l'aumento che in quel momento avveniva anche perché la mia collega ecco Sara Cavero insieme ai suoi staff insieme al Coapsar e tutto stavano lavorando molto bene per predisporre il bando perciò si intravedeva ecco all'ipotesi anche di avere dei costi inferiori per quanto riguarda il tema della raccolta rifiuti bando avvenuto decorrenza primo luglio peccato anche qui come avvenuto per quanto riguarda le opere di edilizia sportiva già ricordate prima il ricorso il secondo perciò anche qui sarà poi la magistratura che ci dovrà dire giudice come proseguire pertanto al momento non potevamo attingere da questo risparmio però una parola data una parola data l'accordo era importante per l'amministrazione onorarlo l'avevamo già in parte onorato col fatto che il fondo compensativo era di 15 mila euro negli anni precedenti preparando il bilancio previsionale l'avevamo già portato a 30 mila euro però già allora avevamo detto cerchiamo di portarlo nel momento della partenza per le domande a una percentuale che si pot che va ritorna a un 30 35 40% dell'aumento che ognuno ha avuto con l'incremento perciò con soldi del bilancio del nostro comune e poi vedremo anche le risorse ecco come sono arrivate ecco con soldi del bilancio lo portiamo in questa sera a 80 mila euro pertanto tenuto conto che avevamo uno spostamento di spesa attorno ai 230 234 mila euro tenuto conto che il regolamento prevede dalla possibilità cioè non dà la possibilità di chiedere il contributo a chi fa autosmaltimento cioè ha già una riduzione per autosmaltimento guardo la mia collega che i termini siano esatti ecco pertanto l'80 mila euro permette un rimborso attorno a un 35 36% dell'aumento perciò già così in modo oggettivo tenuto conto poi come già avevamo avuto modo di analizzare discutendo il bilancio previsionale che se i soci i titolari delle attività produttive risiedono a bran hanno avuto a titolo personale una riduzione in media del 10% sempre sapendo che il 10% non è la stessa cosa dell'altro e comunque a livello fiscale però qui è molto soggettivo è sempre come costo mentre invece le famiglie non lo mettono a costo i sistematari ci avviciniamo a quel famoso 40% che era l'impegno preso con le associazioni di categoria credo che sia un mantenere in modo serio a un impegno preso a dicembre quando vi erano presupposti diversi vi erano speranze diverse ecco pur a fronte delle difficoltà che ancora in questo momento stiamo vivendo però non è giusto che ci sia rimettere le attività economiche e con questo il capitolo ha la sua congruità finanziaria cercheremo di mantenere un ulteriore impegno e devo ringraziare vedo qui il dirigente e tutto il suo staff di far sì che anche i contributi perché teniamo conto usiamo sempre il termine contributi non rimborso avvengano nel più breve tempo possibile perciò diga lunga in modo più veloce rispetto ai normali degli anni precedenti andiamo avanti con la variazione di bilancio una maggior spesa di 50.000 euro per spese postali agio per l'attività di riscossione maggior spesa di 24.500 euro per rimpinguare i capitoli dell'economato capitoli usati per far fronte alle spese per arredamenti scolastici eccetera con l'inizio del nuovo anno scolastico in ultimo una maggior spesa di 17.000 euro di conguaglio rimborso ad attori di lavoro in questo caso la cassa di risparmio di bra per un conguaglio di amministratori comunali risale all'anno 2002 vediamo ancora alcuni capitoli di entrata ricordo ovviamente l'8.000 euro per il contributo ministeriale in materia di prima accoglienza 35.000 euro per maggiori proventi servizi cimiteriali 10.000 euro in più per violazioni e regolamenti comunali non multe non contravvenzioni del codice della strada 19.000 euro per maggior contributo statale sul rimborso delle spese al referendum costituzionale 2016 circa 30.000 euro quale dividendo dalla partecipata l'STRSRL 40.000 euro già ricordato prima per maggiori diritti di segreteria compensati però da un'uscita di 20.000 euro per allo Stato e 15.000 euro anche in questo caso è significativo al di là della cifra per maggiori recuperi effettuati dal concessionario per la riscossione dei tributi ho lasciato per ultimo ma è il primo a mio parere per ordine di importanza il riconoscimento da parte del Ministero degli Interni di circa 316.000 euro come ricalcolo per l'anno di imposta 2017 del Limo noi avevamo fatto ricorso come uffici il ricalcolo c'è stato riconosciuto è stato riconosciuto a 14 comuni in Italia e il comune di Brà è il comune che ha avuto la cifra maggiore ricalcolo per quanto riguarda l'Imo sugli immobili merce quegli venduti delle imprese edili devo in questo caso dire a nome di tutti noi maggioranza all'assessore con grosso ringraziamento al sindaco perché in questi casi è giusto è importante fare i calcoli corretti impostare una corretta richiesta di rimborso però poi le pratiche a Roma che tramite l'IFEL vanno seguite bisogna arrecarsi diverse volte a Roma per far sì che quello che è giusto per il nostro comune e tenete conto che comunque ribadisco è sempre più alta la cifra che noi diamo rispetto a quella che poi si ritorna indietro come fondo di solidarietà quello che è giusto ci venga ritorni indietro perciò grazie a questo importo c'è stato anche possibile onorare tutti gli impegni presi e aumentare anche gli investimenti presenti in questa variazione di bilancio grazie all'assessore il fatto che abbia sforato di alcuni minuti glielo concedo perché oggi è il suo compleanno oggi l'assessore è fogliato che compie gli anni e dunque tre minuti tre minuti in più come regalo da parte del presidente del consiglio si ha chiesto la parola al sindaco prego nelle comunicazioni ho dimenticato una parte della questione dei lutti forse la comunicazione è più importante domani insieme ad altri sindaci e al presidente della provincia dopo domani chiedo scusa a meno che non cambi idea saremo ricevuti dal ministro delle opere pubbliche per la sticuneo ovviamente vi terrò informato dell'incontro al momento attuale non abbiamo avuto ancora né conferma né smentita che ci fa ben sperare in ogni caso se per caso succedesse che magari domani viene disdetto l'incontro chiederei un addebito al ministero delle spese relative al trasporto perché l'aereo noi l'abbiamo pronotato una settimana fa per cercare di spendere meno e quindi ovviamente andremo andremo in maniera molto determinata andremo in maniera che si passi dalle dichiarazioni che si fa al come e quando e poi magari gli chiederemo la volta successiva di venire sul territorio e di spiegarlo sul territorio che credo ne abbia assolutamente diritto abbiate pazienza se mi sono introdotta in questa ma era un elemento di comunicazione di cui mi sono dimenticata ma molto importante grazie al sindaco anche per questa parentesi importante torniamo alla proposta numero 3 l'assessore illustrato nei dettagli contenuti delle variazioni quindi adesso c'è il dibattito e chi vuole intervenire lo faccio consigliere Isu prego allora intanto ringrazio l'assessore perché anche si è sforato è stato velocissimo e ha potuto illustrare bene questo ma io faccio un intervento molto breve perché poi ci sono magari consiglieri molto più esperti di me in questo campo però mi ha colpito che ci siano dei cittadini come la Baratti Milano e come questi 8500 euro che arrivano per il sostegno alla esigenza così farmaceutica perché sono degli indicatori molto belli molto importanti molto significativi della relazione che questa amministrazione è riuscita a creare con il territorio quindi mi sembra intanto da un lato di dover ringraziare queste persone che così contribuiscono attivamente a migliorare i servizi e prendersi cura sostanzialmente di questa città e questo prendersi cura ancora di più nell'ambito farmaceutico allora imitando un po' il nostro presidente bra si cura tutto attaccato e perché dà anche un risultato di piacevole vita di sicurezza perché le persone si curano tra loro si prendono cura gli uni degli altri e quindi aumenta anche la solidarietà e anche la sicurezza in città perché il degrado perché l'abbandono perché l'egoismo perché il rifiuto così della solidarietà creano momenti anche di solitudine di disagio e quindi anche di insicurezza di stabilità e questi invece secondo me sono segnali di fraternità sono segnali così di coesione e allora non è soltanto merito dei bravi cittadini ma è proprio una politica che questa amministrazione ha messo in atto e questi sono i risultati partendo anche dall'esempio del primo cittadino e quindi dando poi a cascata un risultato che è contagioso per cui altri si sono avvicinati anche con cifre importanti come quella della Baratti Milano su questa cifra chiederei che un segnale di fraternità ben preciso ci sia che sia un segnale formativo ed educativo quindi in questa destinazione di fondi chiederei alla Giunta un'attenzione particolare perché all'interno di questo lavoro che viene fatto con questi soldi ci fosse anche un segnale di fraternità e magari gli assessori sanno qualcosa in più dove direzionare queste cose mi ringrazio per adesso grazie a lei consigliere Isu consigliere Tripodi prego grazie presidente un saluto a tutti i colleghi e auguri al assessore Fogliato variazione questa variazione corposa come appunto diceva già l'assessore nella sua relazione sempre molto comprensibile trasparente e dettagliata variazione che appunto tocca molti settori e per di più abbiamo già avuto modo nella commissione finanze ora non ricordo la data poter analizzare punto per punto i vari le varie azioni intraprese dalla dalla Giunta in questa variazione mi limito in questo intervento mi limito solo esclusivamente a toccare alcuni punti penso i punti più essenziali per dare una riflessione diciamo appunto più generale di tale variazione innanzitutto nella variazione si tocca il tema dell'emergenza abitativa un tema importante un tema sentito in effetti vediamo spesso e volentieri ogni anno variazioni del genere dove il comune di Bra attinge grazie a risorse provenienti da fondazioni in questo caso appunto fondazione cassa di risparmio di Cuneo e fondazione cassa di risparmio di Bra fondi per il sostegno a quello che è l'emergenza abitativa poi questa è semplicemente una riflessione del nostro gruppo se emergenza abitativa chiedo all'assessore non può anche essere definita quella per la quale abbiamo all'interno del nostro territorio una decina di alloggi ritenuti appunto dell'ATC di alloggi popolari inagibili e inconsegnabili per il semplice fatto che hanno bisogno di 15.000 euro di interventi di manutenzione per impianti e quant'altro questa è un'emergenza per un'amministrazione che comunque si in ogni occasione dichiara si definisce attenta a quello che è l'emergenza abitativa il sociale e quant'altro credo che all'ascolto di alcuni numeri importanti di interventi legati a quello che possono essere riqualificazioni introduzioni di strumentazioni e dotazioni in alcune scuole e quant'altro prevedere in un momento così di crisi economica che all'interno del nostro territorio ci sia questa realtà questa cosa mi fa riflettere quindi chiedo al sindaco che con la stessa forza con la quale svolge la propria azione in altri settori lo faccia anche con l'ATC perché questo lo ritengo veramente una cosa che non può essere minimamente concepita per una cifra che riguarda la fine 150.000 euro non voglio fare nessuna critica non voglio creare voglio semplicemente far riflettere perché 150.000 euro li stiamo utilizzando e li abbiamo utilizzati per ben altre cose magari meno importanti nella stessa variazione tocchiamo il punto di alcune riqualificazioni grazie con il ringraziamento anche da parte del nostro gruppo dalla società Baratta Milano ma non solo sia per questa riqualificazione di Piazza Roma quella quale anche chiedendo supporto al mio collega consiglier Panero nulla noi sappiamo come consiglieri di che cosa prevederà questa riqualificazione sarebbe una cosa gradita da parte nostra e sarà conoscenza di che cosa intenderà fare questa amministrazione in questa riqualificazione ma anche la costruzione prevista di un ponte pedonale in frazione Pollenza anche lì nessuna notizia in merito abbiamo voluto toccare semplicemente questi punti e anche noi volevamo unirci ai complimenti fatti dall'assessore sia allo staff finanziario del dottor Grillo e allo stesso anche sindaco per aver effettuato e aver creduto nell'effettuare questo ricalcolo dell'introito dell'Imu per quanto riguarda i mobili merce che tra virgolette sono stati diciamo una boccata d'aria fresca per le casse del nostro comune grazie grazie a lei consigliere Tripodi consigliere Ambrogio prego grazie presidente io volevo ringraziare a nome della maggioranza per il lavoro che è stato fatto dagli uffici dall'ufficio ragioneria cui dirigente è qua presente per il discorso del contributo che il comune di Bra è riuscita a riavere per questo fondo di chiamiamolo compensativo insomma c'è 315 mila euro ritengo siano una cifra molto importante una cifra seria ed è una cifra che che peraltro ci aspettava non è che c'è stata diciamo regalata però l'impegno da parte della giunta da parte del sindaco da parte dell'assessore che è sempre molto attento ai numeri con la preziosa collaborazione del dirigente aver notato che c'era qualcosa che non funzionava e aver indagato per scoprire non so se il termine è giusto comunque per andare a fondo per approfondire la questione e per portare a casa questi soldi ritengo sia stata veramente un'operazione degna di di plauso da parte di tutti noi e ringrazio veramente di cuore ecco su queste cose voglio dire a nome di tutti i cittadini mi sento di dover ringraziare perché sono soldi che ripeto sono in questi anni di vacche magre una cifra così importante è appunto una boccata d'ossigeno vorrei anche aggiungere che tra 14 comuni in Italia il comune di Bra è il primo assegnatario quindi quello che ha avuto la cifra più importante quindi direi che possiamo veramente andare orgogliosi e vantarci di questa cosa e ringraziare davvero per il lavoro perché se le cose fossero fatte in maniera frettolosa nessuno controlla nessuno fa niente cioè magari sfuggono delle cose però non sono noccioline sono appunto soldi che poi ci servono ci servono veramente veramente tanto quindi volevo veramente ringraziare per questo aspetto e anch'io mi unisco ai ringraziamenti della collega Isu e del collega Tripodi a Baratti Milano che hanno verso il nostro comune sempre un'attenzione particolare lo scorso anno hanno versato un contributo per i giardini dei bandito e quest'anno versano un altro contributo per i giardini pubblici cioè i giardini pubblici di Bra appena entri in città con il treno insomma spesso sono subito visibili spesso qualcuno si è lamentato del fatto che non sono in ordine che non sono diciamo che si cerca di mantenerli in ordine e comunque avere dei soldi per abbellirle è sicuramente una buona cosa grazie grazie al consigliere Ambrogio consigliere Milazzo prego grazie presidente vorrei solo ricordare che in commissione socioassistenza abbiamo più volte affrontato la questione dell'emergenza abitativa adesso non rubo tempo perché comunque è noto a tutti nel senso che non sono state rese pubbliche le riunioni comunque eravamo presenti tutti i rappresentanti dei partiti che sono presenti qui in consiglio comunale e ricordo bene che l'assessore ha riferito in uno di quegli incontri di aver sollecitato più volte e di aver incontrato insieme al sindaco proprio i responsabili i dirigenti dell'ATC proprio su questo problema delle abitazioni non assegnabili per motivi di danni all'interno quindi dal punto di vista abitativo non possono essere assegnabili e quindi niente volevo solo ricordarlo che effettivamente dei passi sono stati fatti gli incontri si sono avuti però non possiamo neanche entrare in casa altrui come si suol dire perché l'ATC è un ente a parte rispetto al comune voglio comunque ricordare che sono stati sollecitati e anche incontrati personalmente grazie grazie al consigliere Milazzo consigliere Somalia prego grazie presidente brevemente perché sia gli interventi che mi hanno preceduto sia l'esposizione dell'assessore che già in commissione ci aveva evidenziati le variazioni che sono state apportate l'ha già sottolineato il consigliere Tripodi forse non abbiamo parlato in commissione i 15.000 euro di spesa per la costruzione di un ponte pedonale nella frazione Pollenzo che non non riscontriamo in altre non abbiamo riscontrato in altre commissioni ecco semplicemente di cosa si tratta lo stanziamento per la costruzione di un ascensore presso la scuola Montalcini mi fa tornare in mente una richiesta che avevo fatto negli scorsi consigli comunali nell'emore di una ristrutturazione dell'edificio l'ingresso su Evittorio che versa in condizioni penose consentitemi il termine mi unisco ai complimenti per il riconoscimento aggiunto dal ministero dovuto al lavoro della ripartizione finanziaria colgo l'occasione per ringraziare il dirigente il dottor Grillo sempre preciso e puntuale nei suoi interventi sia in consiglio che in commissione e il sindaco per aver perseguito questa questa iniziativa e perseguitato che ha portato un riconoscimento così importante dal punto di vista numerico guardando i numeri la variazione dovuta al dividendo della partecipata STR scusate il bisticio e va sottolineato perché ritengo sia comunque quantitativamente importante e le scelte compiute negli anni precedenti di un'organizzazione di quel tipo in qualche maniera ripagante dal punto di vista economico ecco questo volevo ancora così sottolineare e approfitto anche per la dichiarazione di voto il nostro sarà un voto di astensione per le novità positive che sono state riscontrate in questa variazione grazie grazie consigliere somaglia ha chiesto la parola al sindaco prego ma sia per quanto riguarda il progetto dei giardini di piazza roma sia per quanto riguarda il ponticello di pollenzo è chiaro che ci deve essere un primo passaggio che è quello del della di avere variazione di milancio e successivamente ci sarà la commissione lavori pubblici all'interno della quale verrà presentato il giardini della stazione ovviamente verranno presentati in una prossima commissione lavori pubblici il ponticello a cui faccio riferimento fanno riferimento le richieste non è altro che il collegamento in strada Borgo San Martino che permette di proseguire con il marciapiede il marciapiede che inizia ad un certo punto di strada Borgo San Martino e si interrompe all'altezza del del rio a leggera e quindi obbligando chi ha disabili piuttosto che chi ha le carrozzine eccetera a scendere a scendere sulla strada questo è un intervento che credo sia importante dal punto di vista della sicurezza peraltro credo anche che lo effettuiamo e poi chiederemo alla provincia visto che quella è una strada provinciale di risarcirci di questo intervento attraverso le multe grazie sindaco consigliere steggiano prego grazie presidente solo una battuta appunto che riguarda il ponte di Pollenzio siccome sono un pollentino quindi conosco bene questa annosa vicenda che come ha detto bene il sindaco crea diversi problemi per i pedoni e soprattutto per le persone che hanno problemi di mobilità di dover appunto scendere da questo marciapiede e mettersi in assoluto pericolo sulla provinciale detto questo ringrazio il lavoro dell'assessore di tutti gli uffici per quanto abbiamo sentito questa sera mi sembra che sia stato un lavoro a grande spettro quindi ringrazio da parte mia e di tutta la maggioranza grazie grazie consigliere Rastegiano consigliere Tripodi prego intervengo per l'espressione di voto innanzitutto noi non possiamo che non essere favorevoli per tutto ciò che riguarda quello che saranno diciamo il recepimento di fondi da parte di donazioni volontarie da parte della più cospicua di Baratti Milano e quant'altro quindi è anche vero che però mettendo in luce alcuni punti che se no per noi sono fondamentali da tra virgolette raggiungere obiettivi da raggiungere perché comprendo quello che dice la consigliera Milazzo dove vi sono stati molte riunioni molti casi in cui l'amministrazione la giunta e quant'altro ha avuto in questi tempi modo di interloquire con l'ATC per cercare di risolvere queste questioni visto che è considerato che l'ATC non ha fondi ma siamo consapevoli del fatto che ripetiamo e ribadiamo per un'amministrazione che fa del sociale comunque un forte cavallo di battaglia e noi non diciamo assolutamente che questa amministrazione stia facendo del tutto male ma per un'amministrazione che fa del suo cavallo di battaglia quello che può essere la lotta alla povertà la vicinanza all'ultimo e quant'altro all'interno del nostro comune avere una decina di alloggi che non possono essere utilizzati da famiglie bisognose che potrebbero essere nella lista d'attesa e avere una casa per noi è una cosa che è inconcebibile quindi chiediamo come per tante altre volte quest'azione dell'amministrazione è stata forte in alcuni casi in cui questa amministrazione si è mosse è stata forte ha raggiunto i suoi obiettivi in maniera forte precisa concreta crediamo semplicemente che utilizzi la stessa forza per un discorso e per un argomento tanto importante grazie grazie al consigliere Tripodi ci ho detto a questa variazione il nostro parere sarà contrario quindi dichiarazione di voto già espressa va bene consigliere Isu prego farei ancora solo un brevissimo intervento in questo senso questa amministrazione fa del sociale un cavallo di battaglia direi non solo visto che è stato implementato il fondo compensativo passando da una proposta iniziale di 15.000 euro a 30 e per poi arrivare addirittura a 80.000 direi che un'attenzione particolare viene portata avanti proprio sulle imprese sulle persone che lavorano e che producono e quindi tutte le attività produttive chiaramente che non abbiano già delle riduzioni particolari per la Tari potranno in questo senso avere un ritorno pari al 40% dell'eventuale aumento di spesa per cui mi sembra veramente che ci sia un'attenzione notevole e questo è uno sforzo di un'amministrazione che può considerarsi come dire molto avanti molto attenta un po' a tutte le realtà della città direi che anche il coraggio di investire proprio sulle attività produttive perché si sa quanto possano essere valide per tutta la città grazie beh io mamma mia ho spostato tutto a posto ho preso si è sbilanciato l'assetto quindi no comunque io faccio una dichiarazione di voto a nome della maggioranza raccogliendo anche e ribadendo tutte le giuste considerazioni che i colleghi di maggioranza hanno fatto riguardo a questa variazione questa nona variazione come già emerso da più discorsi e come lo stesso assessore ha riconosciuto questa variazione molto corposa praticamente tocca quasi tutti se non tutti gli aspetti e le ripartizioni della nostra amministrazione alcune considerazioni sono già state fatte anche molto bene io voglio soltanto esprimere il voto favorevole dell'intera maggioranza facendo riferimento a una sorta di stile che questa amministrazione negli anni via via ha manifestato uno stile nei confronti delle aziende delle imprese del territorio uno stile che porta da un lato una ditta importante come la Baratta Milano a ulteriormente offrire un prezioso contributo per una riqualificazione questa volta dei giardini di Piazza Roma segno di una collaborazione di una stima e di un comune sentire sui valori di fondo che legano una comunità negli anni passati le scuole questa volta i giardini di Piazza Roma e come sono stati poi anche già precedentemente finanziati i lavori ad esempio i giardini della frazione di Bandito giardino scuola sono sinonimi in qualche modo di una convivenza civile di un di un consorzio sociale che viene ribadito anche con interventi simbolici ma più che simbolici in questo caso anche molto concreti perché si parla di 50.000 euro uno stile che permette al comune di interloquire con gli uffici sovraordinati e di portare a casa qualcosa come 315.000 euro di riconoscimento da parte del ministro degli interni per il ricalcolo di quelle che erano le competenze del comune e pertanto uno stile di un'amministrazione che sa anche come alquan del momento fare sentire nelle forme istituzionali ovviamente ma fare sentire la propria voce e anche le proprie giuste rivendicazioni uno stile nel mantenere gli impegni parlo di 50.000 euro per incrementare il fondo compensativo Tari per le imprese un implementamento che porta il fondo come già detto a 80.000 euro è anche un modo mi pare rispettoso è un modo educato di mantenere gli impegni di mantenere i patti e questo va questa opera questa operazione il merito di questa operazione va in particolare alla giunta al sindaco e all'assessore alle finanze che hanno sempre creduto in questo dialogo con le imprese del territorio così come può anche darsi che questa sia stata una somma che comunque sarebbe arrivata ma la convenzione territoriale per i servizi sociali 240.000 quasi 250.000 euro da parte del ministero delle politiche sociali per il progetto di contrasto alla povertà ho detto sarebbe venuto perché forse il soggetto sarebbe stato l'ASL non ancora all'epoca quella che oggi invece è la convenzione ma noi sappiamo che i contributi quando vengono richiesti implicano uno sforzo di strategia di analisi dei bisogni di capacità anche di saper compilare delle richieste di partecipare a bandi e in una certa misura di essere in grado di saper tutelare e affermare anche un giusto riconoscimento anche delle proprie responsabilità delle proprie capacità sapere dove quando e come chiedere e questo va sicuramente ad onore di tutto lo staff in questo caso della ripartizione dei servizi alla persona del suo dirigente Fabio Smareglia di chi lo ha preceduto e di tutti quelli che sono stati coinvolti ecco perché variazione molto corposa l'abbiamo detto ma una variazione che può degnamente essere considerata come un ulteriore cammino di questa maggioranza nella realizzazione di un altro tassello a favore di un'idea di città una città che non dimentica i bisognosi ma al tempo stesso guarda anche con grande attenzione a quelli che gestiscono le imprese e a quelli che lavorano nei loro esercizi pubblici artigiani commercianti e così via è un'idea uno stile dicevo prima di città che si può respirare anche su altre delibere successive si parlerà di BRA che sempre di più in questi anni è un punto di riferimento anche per gli enti vicini o gli enti sovraordinati certamente anni e anni di lavoro in questa direzione stanno portando il loro flutto quindi grazie a chi ha contribuito a rendere sempre più verificabile concretamente l'idea un progetto un obiettivo un ideale che quotidianamente si sta facendo reale quindi la maggioranza voterà molto convintamente a favore di questa variazione mi sono seduto mi ringrazio da solo perché il consigliere conterno è intervenuto grazie il consigliere mi pare che le dichiarazioni siano state fatte tutte e quindi la discussione dovrebbe essere chiusa va bene così quindi segnaliamo la presenza tempo saluto il consigliere Bergesio che nel pieno della discussione è arrivato quindi lo saluto adesso e segnaliamo la nostra presenza va bene 15 presenti possiamo votare votazione chiusa delibera approvata con 10 voti favorevoli 2 contrari e 3 astenuti aspettiamo che stampi e poi andiamo avanti passiamo alla proposta numero 4 affidamento del servizio di tesorerie del comune di Bra per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 12 2023 indirizzi approvazione dello schema di convenzione relazione all'assessore Fogliato lo scorso dicembre il consiglio comunale si pronunciò su un primo testo di convenzione per il rinnovo del servizio di tesoreria comunale che riprendeva sostanzialmente i contenuti della convenzione scaduta il 31 12 2017 purtroppo è stato ripetutamente messa a gara senza alcun esito in merito all'affidamento del servizio in due occasioni le procedure di gara sono andate deserte come è purtroppo ormai consentuitile nei rinnovi dei servizi di tesoreria non solo nel nostro comune ma in diversi comuni italiani affinché si possa divenire a una partecipazione a queste gare riteniamo necessario rivedere le condizioni economiche dell'accordo partendo dalla considerazione che non vi sono più tesorieri disposti a svolgere il servizio gratuitamente e con la corresponsione di contributi o altri emolumenti all'enda fidaltario come è accaduto fino ad oggi questo perché le diverse norme che sono intervenute nel corso del tempo primo fra tutti quello della tesoreria unica che impone di trasferire quotidianamente i saldi degli enti su di un conto corrente infruttifero presso la banca d'italia oltre a notevoli responsabilità contabile amministrative che lo svolgimento del servizio comporta hanno reso lo stesso non più di interesse degli istituti di credito tanto da far intervenire il governo per allargare il perimetro dei soggetti che possono svolgere il servizio preso atto del progressivo disinteresse del sistema bancario dopo esserci avassi del periodo di proga contrattualmente previsto e preso atto di queste considerazioni in estate è intervenuta anche una circolare del ministero dell'economia e delle finanze che ha impartito alcune disposizioni circa la corretta applicazione della direttiva comunitaria sui servizi di pagamento sulla base di tutti questi elementi e ragione dell'avvio avvenuto lo scorso luglio di un nuovo sistema di flussi telematici standardizzati tra comune e tesoriere denominato SIOPE Plus è stato redatto un nuovo testo di convenzione che tiene conto anche di quanto le condizioni di mercato stanno dettando agli enti pubblici per poter affidare uno dei suoi servizi fondamentali nella nuova formulazione non è più prevista la gratuità del servizio con un importo che sarà oggetto di ribasso in sede di gara mentre è mantenuta la possibilità di offrire contributi o sponsorizzazioni a beneficio del comune ma unicamente come elementi migliorativi dell'offerta sentivo un frusciare di pagine pensavo che la dichiarazione continuasse grazie all'assessore restituisci 3 mili ma erano un regalo quelli di compleanno comunque grazie ci sono interventi su questa delibera consigliere Marengo prego grazie presidente ma sicuramente dal nostro punto di vista è un passo avanti che oggi si fa rispetto al passato quello che ci ha sempre come dire in qualche modo fatto interrogare sulla opportunità di un bando di questo senso sono sempre stati i contributi e le sponsorizzazioni ne abbiamo parlato spesso nelle varie commissioni il fatto che questa volta si possa pensare ad un bando che preveda non preveda di default obbligatoriamente una sponsorizzazione o un contributo al comune ma che possa essere da parte diciamo del nuovo gestore solo un eventuale elemento aggiuntivo per quanto riguarda il punteggio dato al diciamo al bando ci fa ben sperare per il futuro quindi da parte nostra c'è sicuramente un'impressione positiva e voteremo favorevolmente il provvedimento grazie grazie al consigliere Marengo consigliere Panero prego grazie presidente allora in merito a questa delibera che diciamo sono scaduti i termini quindi abbiamo utilizzato la proroga e adesso ci troviamo diciamo a dover regolarizzare e avviare le procedure per arrivare alla soluzione di questo che è diventato tra virgolette un problema nel senso che una volta era appetibile diciamo che le gare di appalto per avere questi servizi erano partecipate adesso sembra che non sembra non lo vuole più fare nessuno questo va tutto nella direzione di semplificazione e di arrivare a questa famosa piattaforma pago PA per le pubbliche amministrazioni e quando sento semplificazione è sempre una cosa che va presa con molta attenzione perché bisogna vedere per chi viene semplificato nel senso che le leggi parlano così le direttive c'è l'obbligo per i prestatori di servizio dei pagamenti questa abilitazione è andare in questa direzione mi viene in mente quello che sta succedendo e ne discutevo poco fa col dirigente della ripartazione per quello che sono i pagamenti degli oneri urbanistici in particolare mi riferivo a quelli per l'accesso agli atti delle pratiche che si tratta a volte veramente per vedere una pratica bisogna spendere 8 euro quindi stiamo parlando di cifre all'interno di un bilancio di milioni di euro di cifre irrisorie che però mentre una volta il tecnico il privato chiunque poteva andare qualsiasi mattina dal lunedì il venerdì all'ufficio economato e pagare questa cifra prima si è passato a poter andare solo lunedì mercoledì venerdì quindi c'è stata una riduzione del servizio perché gli altri giorni era chiuso adesso queste queste cifre non possono più essere pagate in contanti ma neanche in altro modo quindi nessun modo digitale all'ufficio del comune allora noi abbiamo fatto un'interrogazione qualche tempo fa e siamo sicuramente come gruppo lo confermiamo qui favorevoli alla digitalizzazione a tutto quello che è l'informatica se va nella direzione di velocizzare e semplificare in questo momento chi deve fare questo pagamento o fa un bonifico online o va imposta con un bollettino o tra virgolette peggio ancora per una questione di tempo si reca in questo momento la cassa risparmio del bra prende il numero non c'è più una cassa dedicata ma fa la coda in una qualsiasi cassa della banca attende il suo turno e paga i suoi 8 euro in alcuni casi questa non è una semplificazione per quanto riguarda chi deve pagare queste queste cifre io ho fatto questo esempio dell'urbanistica ce ne sono altri questo va in contrasto con quello sicuramente con quello che è l'idea favorevole di non avere un giro di contanti non avere in comune una cassa che percepisca dei contanti quindi delle cifre tra l'altro ci vuole del personale contabile per reperire questi contanti ci vorrebbe una sicurezza tra virgolette maggiore per avere dei contanti all'interno di un comune quindi ritorniamo e confermiamo di essere favorevoli a quello che è chiamiamola la sparizione dei contanti all'interno del comune o di qualsiasi parte degli uffici pubblici anche perché qualsiasi pagamento telematico è più facilmente controllabile sia da chi lo fa che da chi lo riceve però questo deve essere un'effettiva semplificazione da ambo le parti spero che nel futuro vengano anche attivate altre modalità stile si può fare già da un po' di tempo per il bollo auto quindi andare in un qualsiasi tabacchino ce ne sono tanti quindi altri sistemi di pagamento che permettano all'utenza velocemente e facilmente di espletare a queste funzioni ok per quanto riguarda la delibera e questo appalto per questa gara per l'affidamento speriamo che possa andare a buon fine che possa essere un risultato appunto favorevole sia per la pubblica amministrazione ma anche per la banca che ovviamente caricandosi di questo onere debba farlo sicuramente con lo direi tra virgolette un ritorno perché nessuno fa niente per niente specialmente non me ne voglia l'assessore agli istituti bancari grazie grazie a lei consigliere panero qui gli istituti bancari sono più rappresentati istituti bancari certamente i bancari e i banchieri qui ci sono i bancari almeno fino a prova contraria poi va bene grazie comunque dell'intervento ci sono altri interventi non ci sono più interventi quindi si pone in votazione questa dell'eseguibilità immediata procediamo va bene tutti ci siamo segnalati possiamo votare votazione chiusa delibera approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti approviamo adesso l'immediata eseguibilità segnaliamo la presenza va bene presenza segnalata si può votare votazione chiusa come sopra 13 voti favorevoli e 2 astenuti passiamo alla proposta 5 approvazione del documento unico di programmazione DUP per il triennio 2019 2021 illustra l'assessore fogliato si in questo caso visto che prima ho abusato avrei preso la decisione di cercare di restituire il tempo pertanto non non voglio far totta la vostra incidenza non entrerei nell'aspetto tecnico del DUP che abbiamo già avuto modo di parlarne e neanche ma poi dopo c'è modo di poterne discutere con tutti i colleghi nei vari punti voi sapete che il DUP rappresenta da dove siamo partiti perciò il programma politico amministrativo il durante quello che è avvenuto e le azioni prospettiche perciò non ricorderò tutte queste cose sono illustrate nel documento però è giusto che poi nella discussione ci sia tutto il tempo per affrontare mi limiterei ad alcune riflessioni che mi sono venute nel momento in cui si preparava e leggevo e rileggevo questo documento che diciamo che non è proprio il documento di cui uno non vede l'ora di leggere in vacanza queste cose però devo dire che è un documento che si legge anche con facilità ecco pertanto credo che possa anche essere interessante per i nostri concittadini prenderne in mano e darvi una lettura beh la prima riflessione è che comunque il DUP è sempre un documento in divenire perché è vero che di volta in volta quando lo presentiamo lo si aggiorna ma poi dopo l'impegno è comunque andarlo a riaggiornare andarlo a integrare con quello che verrà dopo andare a verificare se quello che avevamo scritto in precedenza poi parzialmente si è realizzato perché non si è realizzato e così via sia dal punto di vista descrittivo ma anche dal punto di vista contabile perché nel momento in cui vi torneremo nel sede di bilancio previsionale avremo i dati del bilancio previsionale pertanto i dati che sono riportati lì per quanto riguarda il 2018 e poi il 2019 in modo particolare saranno diversi da quelli di adesso però una riflessione è questa che se proviamo ad ampliare lo sguardo un po' più in grande cioè quello che mi ha colpito in questi giorni leggendo i giornali guardando la televisione soprattutto in materia di economia e in materia politica e amministrativa credo che il documento unico di programmazione in questo momento di grande confusione a mio modo di vedere economica ma anche politico istituzionale credo che sia ma non solo per il nostro comune dei comuni dipendentemente da chi amministra ancora una certezza una guida ecco lo sforzo che stanno facendo le amministrazioni comunali non vedo altrettanto dall'altra parte di serietà nella documentazione nella programmazione della linearità della documentazione ecco credo che le amministrazioni comunali stiano dando torno a dire indipendentemente da chi le sta amministrando stiano dando un bel esempio ad organi superiori altra cosa è che traspare in questo caso nel nostro DUP un flessibilità di adattamento cioè ho provato a leggere da dove siamo partiti i vari documenti dati in precedenza e via dicendo di adattarsi alla situazione di BRA cioè vivendo la realtà di BRA in qualche modo è giocoforza adattarlo logicamente non adattare quello che è già stato perché vorrebbe dire carte false ma in un'azione prospettica se non fosse così vuol dire che faremo stiamo solo in ufficio non viviamo il territorio altro aspetto il passare dalla centralità dei capitoli cioè il bilancio è giocoforza redatto per capitoli le variazioni di bilancio sono movimentazioni di capitoli bilancio previsionale bilancio consuntivo in questo caso si passa dalla centralità dei capitoli alla centralità progettuale a dei progetti che poi sono stati realizzati o meno l'edifico eccetera ma comunque vengono dichiarati dei progetti altro aspetto ho donato anche che nelle varie missioni il coinvolgimento della della città quello che diverse volte ho avuto modo di ricordare preparando le slide sia per il bilancio previsionale perché per il consuntivo della sussidiarietà orizzontale ma meglio ancora della sussidiarietà circolare che mette in moto delle energie positive torno a dire è stato richiamato prima e mi ha fatto piacere da alcuni miei colleghi di consiglio il fatto di vedere il privato ma vedere anche le imprese che in qualche modo fanno squadra in un'azione amministrativa altro aspetto ritengo che il DUP non solo sia lo è in parte perché per obbligo di legge lo deve anche essere un documento che certifica dei dati certifica una realtà ma comunque deve sempre avere un'azione prospettica se non svolgerebbe un ruolo notarile se non svolgeremo un ruolo notarile che non ha senso quello deve essere il nostro mestiere e non deve essere neanche ciò che produciamo come documentazione in ultimo di questa mia prima parte traspare anche perché noi lo ricordavamo un po' di più in passato ultimamente ho visto che lo dimentichiamo un po' di ricordarlo traspare il ruolo che hanno avuto gli enti locali nella spendy review il ruolo del pareggio del bilancio statale mi ricordo in passato normalmente iniziavamo parlando di tematiche finanziarie ricordando questo poi andando avanti è un po' scemato ecco io ritengo e poi lo riprenderò un po' più avanti che non dimentichiamo anche qui come nel primo aspetto che dicevo che stiamo dando l'esempio e parlo dei comuni italiani su una documentazione lineare eccetera anche qui abbiamo continuato a dare l'esempio sulla grande attenzione della parte riuscita delle spese vengo alla seconda e ultima parte ho detto prima tralascio tutte le pagine dove sono riportati ciò che di nuovo è per il 2018 poi prospettico per il 2019 però ci sarà tutta la possibilità di discutere ho provato a vedere in punta di piedi senza esaltazione se il DUP proposto fosse coerente con alcuni obiettivi che c'eravamo prefissati e ne avrei visti una decina che vorrei richiamare torno a dire con molta pacatezza ecco senza esaltarci ritengo che sia ampiamente coerente con le risorse disponibili con l'attenta valutazione delle entrate e della capacità finanziaria che abbiamo coerente con una dichiarata a priori politica tributaria e tariffaria dei servizi a domanda individuale coerente credo onestamente ma anche detto non esaustivo e non ancora sufficiente con la realtà cittadina con cosa chiede la realtà cittadina assumendoci anche responsabilità che istituzionalmente forse non sono così ampiamente del comune ma che poi l'ente comunale non può ignorare torno a dire il tema del lavoro e via dicendo certamente abbiamo delle responsabilità le responsabilità più ampie sono gli altri enti però credo che le abbiamo affrontate coerente con la sostenibilità nel tempo questo non è una caratteristica da poco perché vuol dire che c'è stato qualcosa prima di noi che abbiamo avuto un periodo di circa parlo dieci anni ecco la nostra amministrazione due amministrazioni ma comunque dobbiamo garantire quello che noi abbiamo creato dobbiamo garantirlo anche dopo dobbiamo garantire a chi verrà dopo la possibilità di continuare a investire continuare a progettare e non fermarsi al tutto e subito coerente con la realtà socio-economica intendo nel senso più ampio perché BRA non è isolata dal mondo BRA risente dell'influenza tenete conto che dal 2014 a oggi abbiamo avuto leggermente meno adesso ma abbiamo avuto anche per il nostro pezzo di provincia grande la crisi economica che si è fatta sentire in particolare sotto il settore dell'indirizia coerente col tema della coesione sociale e del ripensamento del welfare cittadino e quando intendo welfare cittadino non intendo socio-assistenza ma il vivere bene nella città partendo il ragionamento è un percorso di riflessione partendo dal coinvolgimento dei nostri cittadini dell'associazionismo dei quartieri e frazioni coerente col ruolo di facilitatore di promozione di organizzatore di progettualità per una città educante noi non siamo un'agenzia educativa ma noi abbiamo l'obbligo di creare i presupposti perché la scuola e la famiglia si parlino e creino un'alleanza educativa coerente col favorire il lavoro di rete di squadra di coinvolgimento di energie del tessuto cittadino un giusto mix fra pubblico e privato e se fatto questo viene subito l'alta coerenza con la ferma volontà di ricerca di risorse da altri enti pubblici e privati in ultimo e secondo me è in questo momento molto importante coerente e non vuol dire condividere coerente con le normative che abbiamo con le leggi ce le abbiamo sempre rispettate fino in fondo non le abbiamo molte non le abbiamo condivise il patto di stabilità non l'abbiamo condiviso nella sua formulazione ma l'abbiamo rispettato i tagli al fondo di solidarietà poi abbiamo recuperato non l'abbiamo condiviso ma abbiamo rispettato che era quello l'importo che soffrivamo l'esasperazione di ciò che a volte ci viene chiesto anche in tema di personale vi dicendo non vuol dire condividere fino in fondo ma l'abbiamo rispettate credo che sia troppo facile perdonatemi fare il bilancio in deficit accontentare creare progettualità sforando vuol dire non partecipare ad armi pari vuol dire che in una gara c'è chi onestamente partecipa e chi fa uso di sostanze e a quel punto lì non è più correttezza credo che un'amministrazione corretta di qualsiasi livello le rispetta le norme grazie grazie all'assessore ovviamente si apre il dibattito quindi chi vuole chiede la parola grazie consigliere milazzo prego grazie visto che nessuno interviene mi permetto semplicemente di ringraziare l'assessore perché è stato lucidissimo e in modo molto breve e conciso ha fatto un'analisi di quello che è appunto il DUP e lo ringrazio perché perché non promette la luna è facile fare delle promesse che poi non possono essere mantenute se non appunto girando falsando i bilanci quindi grazie voglio esprimere solo grazie per la sua per il modo conciso con cui ha espresso questa relazione grazie il consigliere milazzo consigliere ferrero prego grazie presidente ringrazio anzitutto anch'io l'assessore per la chiarezza dell'esposizione con la quale riuscito in un tempo ragionevolmente breve hai detto che ci volevi stupire direi quasi che ci hai stupito ad illustrare questo corposo documento che partendo dalla descrizione programmatica complessiva legata e coerente con le linee di mandato le aggiorna con cadenza annuale alle mutate esigenze individuando per ognuna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie e disponibili per la loro realizzazione il DUP è un documento di carattere generale ma nel contempo ha molti contenuti specifici e che farà da filo conduttore per la stesura di bilancio preventivo del prossimo anno per il prossimo anno è la quarta volta che parliamo di DUP ricordo ancora come fosse ieri la presentazione del primo valutato da molti una scatola vuota contenente una sequenza di indicazioni di normative di carattere generale ma un po' priva di anima in quanto alle concrete indicazioni immediatamente percepibili dalla cittadinanza con questo documento credo che lo scotto dell'apprendistato nell'elaborazione del documento sia stato definitivamente superato e che pur nella sua complessità risulta di una certa facilità di lettura in quanto dopo la descrizione di ogni argomento segue la tabella economica nella quale si colloca del personale necessario a realizzarlo dei tempi di attuazione facendo seguito poi con le considerazioni e le valutazioni che ne facilitano di molto la comprensione dopo questa considerazione di carattere generale per non ripetere quanto già detto mi soffermo ad approfondire solo alcuni degli argomenti specifici un po' attinenti alla mia delega limitandomi in questo alle azioni previste con orizzonte temporale 2019 quella in via di riprogettazione o anche di realizzazione per la quale è stato avviato l'iter di fattibilità di programmazione ma che l'esecuzione vera sarà compiuta soltanto oltre la sieramo per la prossima amministrazione parlo parlo un po' di due o tre punti innanzitutto quello dei trasporti e del diritto alla mobilità argomento questo dei trasporti di competenza dell'ente locale funzionamento regolamentazione pianificazione erogazione del servizio sul territorio per quanto concerte il trasporto pubblico locale cosiddetto TPL lo stesso è garantito tramite l'adesione all'agenzia della mobilità piemontese la programmazione dei servizi sarà strutturata sulla base delle esigenze del territorio della provincia cosiddetto bacino sud-ovest nel rispetto però di parametri uniformi a livello regionale e concordati con i soggetti con gli enti soggetti di delega cioè il comune e la provincia il comune di bra quale capofila della ex conurbazione in accordo con 14 comuni dell'area omogenea circostante ha predisposto lo schema di un nuovo piano di riorganizzazione di potenziamento di estensione di rafforzamento delle funzioni di adduzione al servizio ferroviario metropolitano nonché nuove linee a servizio del nuovo ospedale di Verduno non sto a citare tutto l'iter di questo percorso se sarà necessario richiesto lo specificherò di tutti questi passaggi di momenti di interlocuzione tra il nostro ufficio trasporti e l'agenzia regionale dico solo che sono attualmente in corso le verifiche e le analisi di condivisione del progetto con l'agenzia è stato recentemente firmato a Cuneo un patto per il TPL della provincia di Cuneo nel patto sono comprese tutte le necessità del nostro comune e quelli dell'area circostante allo stato attuale il comune ha proceduto alla condivisione a stralcio del progetto complessivo della proposta delle due linee extraurbane la Braccaru che ripristina di fatto il servizio fornito fino al 1994 dal treno della Braceva e la Bracfossano con 5 prolungamenti fino a Cuneo tutti con frequenza oraria cadenzati allo stesso minuto e coincidenti con il treno l'ultima data comunicata dall'agenzia per l'entrata in esercizio di questo nuovo progetto è quella del 1 gennaio 2019 parliamo un attimo adesso di PUMS l'acronimo di piano per la mobilità urbana per la mobilità sostenibile questo nasce da una direttiva della comunità europea per sollecitare lo studio e l'introduzione di piani di programmazione in ambito viabilistico e interventi di riordino della mobilità cittadina mirati alla sostenibilità ambientale e a migliorare la qualità della vita nel PUMS di BRA in corso di elaborazione confluiranno le attività di riqualificazione ambientale delle aree centrali anche con le limitazioni del traffico motorizzato punto di partenza è stato la raccolta dei dati mediante monitoraggio dei flussi in transito in corrispondenza agli ingressi della città che servirà per studiare gli interventi di protezione dei quartieri residenziali dal traffico di attraversamento la estensione della rete delle piste ciclabili e qui fatti una digressione ricordando che il nostro comune ha partecipato al bando regionale di finanziamento per piste ciclabili ed è stato premiato e dice premiato riconosciuto come terzo nella graduatoria dei finanziamenti la messa in sicurezza dei percorsi pedonali all'interno della città un deciso intervento in tal senso è stata la riqualificazione di via Vittorio Emanovele di via Principi e di via Cavour altri interventi allo studio riguarderanno la seconda parte di via Vittorio Veneto l'asso di via Cavour fino a piazza Giolitti e come già detto il potenziamento del trasporto pubblico un attimo ancora riguardante la parte riguardante le opere pubbliche questo è un capitolo del DUP di cinque pagine del documento mi approfondirò solamente su alcuni di questi ovviamente per non tediare oltre ricordando un particolare che uno degli obiettivi strategici di questo Pums riguarda i lavori pubblici le opere pubbliche riguarda gli investimenti in opere pubbliche in corso di realizzazione è da mettere in rilievo l'importanza assegnata agli investimenti per manutenzione ordinaria e preventiva che a volte permettono con la prevenzione di evitare maggiori spesi per il rifacimento delle opere quando vengono ad ammalorarsi per mancanza di questa manutenzione preventiva altri interventi in corso di realizzazione riguardano e questo che potrei andare quasi per elencazione ma riguardo quello più uno dei più importanti è quello che riguarda i lavori straordinari della pavimentazione stradale assegnato questo con gara è stato fatto un bando per un importo di 300.000 euro che è da un po' di anni che non c'era una cifra simile riferita al rifacimento degli asfalti ricordo un altro particolare che nei prossimi giorni verrà firmato il protocollo con la regione d'RFI per la copertura ferroviaria del sesto lotto interamente al loro carico per un importo di oltre 800.000 euro brevemente si potrebbero solo più citare proprio per non tediare tutta una serie di altri capitoli che stanno in queste in queste pagine che vanno dalla sicurezza degli edifici scolastici al superamento barriere architettoniche alla scuola elementare Montalcini un'altra partecipazione al bando Cuneo Provincia Smart con un finanziamento di 45.000 euro la biblioteca civica museo del giocattolo con adeguamento dell'impianto elettrico tutti gli interventi riguardanti lo sport realizzazione del campo a 11 in erba sintetica la riqualificazione della pista di atletica il nuovo campo di calcio in erba artificiale e poi direi di lasciare qui nel senso che è un elenco di cose che sulla quale per ognuna sono previsti tempi di attuazione importi della spesa e fonti di finanziamento lascierei qui ringraziando anch'io tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla stesura di questo documento che ripeto direi di facile lettura rispetto ai precedenti per la sua stesura e impaginazione a nome della maggioranza su questo proposto di deliberazione esprima fin d'ora l'approvazione di tutta la maggioranza grazie grazie a lei consigliere consigliere Somaglia prego grazie presidente l'assessore ha definito il documento unico di programmazione un documento di lettura e anche di facile lettura e condivido questa sua questa sua analisi io giovedì sera e venerdì sera ho dedicato parte del mio tempo a leggere quasi completamente il dupe se volete interrogarmi pagina per pagina lo dico ma a parte gli scherzi e siccome io sono stato uno di quelli anzi forse il primo che ha ricordato il consigliere ferrero che aveva criticato quale scatola vuota la prima esposizione mentre nell'analisi del successivo mi ero complimentato con l'assessore perché non nel merito nell'oggetto di ogni singolo argomento perché magari non tutti li condividevamo ma nella nella stesura e nella realizzazione del dupe ebbene l'altra sera scorrendo le pagine del dupe a un certo punto mi sono chiesto se eravamo tornati un po' indietro poi è vero ho riflettuto tra me e me e questo è un documento di fine consigliatura quindi non potevamo aspettarci chissà che che novità chissà che nuova idea se non quelle di cui già abbiamo sentito parlare o dibattuto nel corso degli ultimi anni e negli ultimi mesi in particolare e allora sulle considerazioni invece come ben diceva l'assessore questo è un documento che ci fa un po' la storia di quello che è successo negli ultimi cinque anni negli ultimi tre anni forse in particolare e ci dice dove andiamo qual è stato lo stato di realizzazione e dove andiamo per i prossimi anni allora dove andiamo per i prossimi anni l'ho detto poche novità ma sono scusabili dal fatto che siamo a fine consigliatura per quanto riguarda invece quello che è stato fatto avremmo modo nei mesi a venire di insieme voi da una parte noi dall'altra di tirare le somme su quello che è successo negli ultimi cinque anni poi nella lettura però qualche nel merito di qualche intervento seppur velocemente mi piacerebbe scendere e allora quando leggevo dell'ambito della mobilità sostenibile intanto il mio pensiero è subito andato all'ultimo consiglio comunale dove abbiamo discusso per due ore di un argomento che qui era da discutere o da trovare ma questo al di là delle polemiche e delle mie considerazioni sull'utilizzo delle emozioni ecco mobilità sostenibile leggevo che è allo studio eventuale estensione delle zone a traffico limitato ad esempio ci sono delle valutazioni sulla parte di via Vittoria Emanuele che non è ancora interessata da questo e sull'asse tra via Cavour e piazza Giolitti allora non so ecco quali saranno i tempi di presentazione o quali sono le idee e i ragionamenti che sono stati già fatti quello che è certo già le difficoltà di viabilità della nostra città devono essere devono portare a riflessioni serie e approfondite su nuove aree di zone a traffico limitato questo secondo noi secondo me è una considerazione una valutazione che deve essere approfondita in fase di studio nel capitolo che parla di sinergie e forme di programmazione negoziata in riferimento a alcuni interventi sia di edilizia scolastica che di sì che riguardano essenzialmente interventi di edilizia scolastica si accenna alla partecipazione a bandi e qui la riflessione che ho fatto che abbiamo fatto è quella che purtroppo la partecipazione agli ultimi bandi ahimè non ha raggiunto lo scopo dovuto se è vero che quello è un sistema di finanziamento importante si rischia però come pensiamo che purtroppo sia avvenuto a presentazione di importanti piani di ristrutturazione di realizzazione più come una notizia eclatante rispetto a quello che poi effettivamente può avvenire nel momento in cui la nostra partecipazione al bando è bocciata e quindi non ci sono le fonti di finanziamento di quell'opera o di quell'intervento quindi anche lì riteniamo che debba essere posta maggiore attenzione alla presentazione di importanti iniziative e mi riferisco in particolare alla riqualificazione dell'ex mattatoio rispetto a un altro progetto che ci era stato presentato recentemente che ahimè non è ottenuto anche il risultato positivo della partecipazione al bando patrimonio e gestione dei beni patrimoniali qualche mese fa avevamo chiesto quale era l'intenzione dell'amministrazione sull'utilizzo di due importanti immobili che ormai fanno parte uno da non molto tempo l'altro da anni del patrimonio immobiliare dell'amministrazione e mi riferisco al Movicentro e a Palazzo del Garrone al Movicentro quale può essere la destinazione di questo sito su Palazzo Garrone c'è stata una variazione urbanistica due anni fa se non ricordo male per il cambio d'uso del sito a oggi però non abbiamo avuto notizie su quello che è l'intenzione dell'amministrazione su questi importanti asset che interessano la nostra città mi ero anche soffermato sulla parte che riguarda il diritto alla mobilità e anche lì ma l'ho già ricordato prima al di là del fatto di ragionare attentamente su quello che può essere la trasformazione in ZTL di altre zone della città la discussione dell'ultimo consiglio mi ha riportato alla riflessione dello strumento della mozione e questi questi sono i documenti sui quali bisogna fare certi tipi di discussione e non secondo noi secondo me l'utilizzo di strumenti diversi ma e lo dico mi dispiace non ci sia stasera il consigliere all'Asia non so se aveva qualcosa da dire su queste cose ma mi spiace che ci siano discussioni molto lunghe su certi argomenti magari nelle sedi diverse rispetto a quelle più opportune a mio avviso un'ultima considerazione per quanto riguarda le opere pubbliche ecco qui lo stanziamento la scrittura per l'esercizio 2019 per la realizzazione del nuovo edificio nuovo prezzo scolastico che fa riferimento al progetto l'idea di realizzazione di una nuova scuola in via Trento Trieste avevamo chiesto qualche consiglio fa di avere delle informazioni un po' aggiornate su quello che è lo stato dell'idea sappiamo ovviamente che dalla parte finanziaria ci sono le notizie che ci erano state date allora il bando INAIL però per quanto riguarda la parte di programmazione progettazione e soprattutto di studio delle ricadute di viabilità sulla zona riterremmo che qualche notizia in più sarebbe opportuno averla abbiamo ricordava il consigliere Ferrero la realizzazione dei nuovi impianti sportivi che ci ha visto ci ha visto favorevoli seppur con qualche sfaccettatura diversa per ognuno di noi e mi è spiaciuto che nella relazione del consigliere Ferrero non ci sia stato però parola sull'interramento dei binari presso la stazione ferrovaria che invece è ancora riportato nelle sinergie e forme di programmazione negoziata ma che ahimè negli anni almeno per quanto ci consta sapere non ha avuto più nessun tipo di sviluppo quindi mi riservo poi di riprendere la parola per la dichiarazione di voto grazie grazie a lei consigliere consigliere Gemma prego grazie presidente volevo fare alcune considerazioni sul tema dell'ambiente l'ambiente è la definizione che metaforicamente ci contiene tutto ciò che ci circonda è ambiente i problemi dell'ambiente l'impegno per la sua tutela la sensibilizzazione di tutti i cittadini in particolar modo e ancora di più dei più piccoli queste le priorità portate avanti da questa amministrazione con la massima considerazione e la più capillare attenzione compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei detami della legge importanti i risultati che si sono realizzati ricordo innanzitutto il pareggio percentuale di raccolta differenziata dal 46% del 2009 al 70.4% del 2017 l'approvazione del regolamento acustico comunale con le relativi applicazioni e funzioni di controllo l'impegno per cercare di eliminare il famigerato amianto con la gestione di un bando per l'incentivazione la rimozione dei manifatti scusatemi degli edifici privati prossimamente ma già in corso di realizzazione l'introduzione del cassacchetto prepagato per cercare di aumentare la qualità la quantità scusate di rifiuti riciclabili e quindi differenziabili tutto ciò con un progetto di sensibilizzazione e dialogo con la cittadinanza coinvolgendo varie entità dalla scuola i quartieri le frazioni le amministrazioni dei condomini cercando di arrivare più possibile capillarmente a contatto di tutti i componenti che vivono e devono poi comunque gestire il problema della raccolta dei rifiuti ribadisco che forte è l'impegno nel gestire e studiare ogni spetto legato all'ambiente dalla cura del verde cittadino come realizzare e gestire al meglio aree verdi o proporre e intensificare la piantumazione qui vorrei aprire una parentesi l'aspetto della città anche in questi particolari è importantissimo tutto ciò che è bello dovrebbe aiutare a vivere meglio cioè dovrebbe aiuta i cittadini a vivere meglio i più sensibili cominciano a diventare più attenti e fanno proprio della loro città un punto di orgoglio è bello sentire l'impegno di tutti nel così nel controllare che ci siano i fiori ci siano le piante che i giardini siano ben tenuti una città bella diventa bella per viverci una città bella è una città bella per il commercio una città bella è bella per il turista che viene si guarda attorno non ci sono solo i monumenti e si valuta anche come si viene accolti e in che dimensione la città vive e quindi anche il turista apprezza anche queste cose questo questo ve lo posso dire perché per vari motivi oltre all'impegno che ho qui per il mio lavoro per altre forme di collaborazione so che questi aspetti della nostra città vengono veramente apprezzati un'altra cosa importante è l'impegno per il pedibus i cittadini più piccoli hanno riscoperto seppur magari per brevità tratti l'importanza di andare a scuola a piedi di fare aggregazione ancora prima di arrivare a scuola ed è una cosa importantissima in più si sta cercando proprio di far capire che la città può essere vissuta anche a piedi anche dai più piccoli e in questo modo sebbene in minima parte si cerca di inquinare di meno tutto questo e altro ancora con l'impegno di non gravare i contribuenti a vantaggio delle famiglie e come è già stato ben spiegato dall'assessore Fogliatto con il fondo compensativo per bilanciare l'aumento che c'è stato per le attività produttive questo fondo potrà rimborsare il 35 e il 36 per cento di quanto è già stato pagato sono per conto mio passi importanti per mantenere la città perché tutti si possano sentire parte della città la città è di tutti e queste e anche l'ambiente deve essere parte dell'impegno di tutti i cittadini ringrazio veramente ancora l'assessore Fogliatto e tutti gli uffici comunali che hanno contribuito alla stesura del DUP grazie a tutti grazie a lei consigliere ha chiesto la parola il consigliere Marengo prego grazie presidente nel mio intervento di prima non avevo ancora fatto gli auguri all'assessore e ci tenevo a farglieli ecco anche perché sarà l'unico momento di bontà condivisa nel mio intervento scherzo naturalmente ma a me fa sempre molto sorridere quando sento un esponente di questa amministrazione raccontare lo storytelling cittadino scherzando con i colleghi del centro-destra ogni tanto diciamo che ci sembra che fino a quando hanno governato altri in questa città si viveva nelle palafitte senza luce senza d'acqua è arrivata questa amministrazione improvvisamente tutte le cose vanno bene la città è una città diventata una città da vivere fioccano i turisti sono tutti contenti c'è il welfare inteso come cooperazione sociale beh secondo me la realtà non è proprio così parto da un presupposto che amministrare è difficile indipendentemente dal colore politico di qualsiasi amministrazione nessuno pretende nessuno pretende i miracoli il DUP è il massimo programma politico di un'amministrazione anche se poi noi oggi parliamo di un DUP 2019-2021 quando questa amministrazione sarà finita da almeno un paio di anni io credo che chi mi ha preceduto abbia detto delle cose sagge condivido pienamente quello che ha espresso il collega il collega Somalia farei però alcune altre considerazioni aggiuntive mi è sembrato che i colleghi di maggioranza che hanno parlato soprattutto delle opere pubbliche ne abbiano dimenticate due sostanzialmente una l'ha ricordata chi mi ha preceduto cioè Massimo Somalia che è l'interamento dei binari oramai quest'opera faraonica che era il totem e il progetto di punta delle amministrazioni di questa amministrazione in tutte le campagne elettorali per quanto oggi la si ritrovi ancora scritta da qualche parte è diciamocelo miseramente fallita forse sarebbe ora di dire come disse un esponente di questa maggioranza che un bel progetto è stato fatto lo si è messo in un cassetto se verrà qualcuno e troverà i soldi il progetto è già stato fatto ma per spendere quel progetto ma per fare quel progetto chiedo scusa sono stati spesi 740.000 euro di soldi pubblici non del comune della regione ma sempre pubblici sono ma quello che mi fa sorridere è che in tutti gli interventi dei colleghi di maggioranza in questi ultimi due anni non si sa perché il marciapiede di stradaorti è sparito totalmente nessuno parla più del marciapiede di stradaorti quando si ricordano le grandi opere nessuno lo nomina più forse perché è stato l'esempio della cattedrale nel deserto forse perché si è fatto un'opera oggi assolutamente inutile percorsa forse da poche persone in tutto l'anno ecco questo ovviamente essendone desiderata di questa amministrazione non può che a noi di centro-destra fare storcere il naso si parlava anche di welfare e di socio-assistenza beh molto è stato fatto ci mancherebbe bisogna riconoscerlo ma il problema nostro è che abbiamo sempre considerato un diverso approccio al welfare e alla socio-assistenza per noi se si fosse potuto dare una mano concreta e so di essere noioso forse parlo sempre delle stesse cose ma si fosse potuto dare un aiuto concreto alle aziende braidesi che assumevano come più volte abbiamo proposto con gli emendamenti al bilancio in passato e io speravo fortemente attraverso il tavolo delle attività produttive forse molte delle spese che oggi si affrontano per la socio-assistenza sarebbero venute meno perché magari trovando un lavoro ai genitori che hanno i figli che vanno a scuola e non hanno i soldi per pagare la retta della mensa forse già questo sarebbe stato un inizio un inizio positivo non voglio dilungarmi molto è già stato detto molto e poi magari mi ritaglierò un momento successivamente ma se la raccolta differenziata è arrivata a queste percentuali e bisogna dare a Cesare perché di Cesare la raccolta oggi è al 74% la differenziata 70,4% chiedo scusa perché non pensare a una riduzione della Tari visto che abbiamo visto che è arrivato anche un dividendo dall'STR di 30.000 euro da mesi per non dire da anni noi chiediamo un provvedimento di questo genere proprio in proporzionalità all'aumento della percentuale di raccolta differenziata molte città della provincia alcune delle nostre sorelle delle città più grandi lo stanno facendo lo hanno fatto qui non si tratta di diminuire fortemente ma di dare anche un segnale ecco noi questo segnale non lo abbiamo visto quindi per noi il DUP in questo momento proposto da questa amministrazione ha sicuramente una valenza negativa non vediamo in questo documento una programmazione al di là delle parole che possa dare un segno forte un segnale di ripresa delle varie attività economiche braidesi e quindi siamo orientati fortemente su una negatività abbiamo cercato di fare la nostra parte in questi anni per come potevamo per quello che è il ruolo di un consigliere comunale soprattutto di minoranza non abbiamo visto risposte specifiche molte delle attese sono state disattese si sono fatte molte parole ma i fatti concreti sono sono molto pochi c'è molta da parte di questa amministrazione c'è molta presenza sui giornali sulle varie iniziative ma se poi si va a vedere il la reale incidenza sui nostri concittadini al di là dello storytelling dell'amministrazione e dei colleghi di maggioranza beh questa è decisamente inferiore alle aspettative lo si vede anche ultimamente dicevamo prima qualcuno parlava dei soldi stanziati per per l'asfaltatura delle strade caspita abbiamo delle strade che sono ridotte in uno stato pietoso io vivo dalla rotonda di via Cunio capisco tutte le motivazioni per cui per cui non si sono ancora stati avviati i lavori ma santo cielo c'erano delle voragini quest'estate capiamo anche che alcune strade in questo momento non possano essere riasfaltate magari mi riferisco soprattutto a via Cunio per i lavori sulla salita del Bergoglio per i lavori in via Cherasco lavori che dureranno ancora molto che stanno proiettando una mole di traffico su questa città enorme mi si dirà è vero l'amministrazione non ha pensato non ha preventivato perché non non erano lavori gestiti da questa amministrazione dall'amministrazione cittadini ma dalla provincia beh però magari un intervento con chi di dovere visto che si ricordavano visto che si ricordava il buon rapporto con gli enti istituzionali sovracomunali lo si poteva lo si poteva fare si poteva cercare e concordare una road map che non portasse ad avere un cortocircuito in questo momento tra la discesa del Bergoglio e dico discesa perché la si può percorrere solo in quella direzione e la salita di via di via Cherasco si poteva pensare che se i lavori non finivano prima si poteva intervenire con la provincia chiedendo di posticipare magari i lavori insomma abbiamo aspettato tanti anni abbiamo aspettato fino ad oggi probabilmente se avessimo pensato di non avere un carico veicolare tale per cui sicuramente le nostre strade ne risentiranno dal punto di vista dell'asfalto sarebbe potuto essere un qualcosa di non soltanto positivo ma sicuramente condiviso anche noi come consigliere di minoranza quindi concludo dicendo che per tutte queste motivazioni la nostra sensibilità nei confronti di questo documento non può che essere negativa grazie grazie consigliere Marengo ha chiesto la parola al sindaco prego credo che sia importante intervenire su alcuni aspetti perché ho fatto tanti anni d'opposizione e quindi so bene come sia difficile intervenire rispetto ai bilanci delle amministrazioni e delle maggioranze che mano a mano ho dovuto affrontare capisco che possono esserci delle differenze sono nel sale della democrazia il confronto e la e la differenza di di opinioni però su alcune questioni quando è necessario è necessario essere anche molto chiari intanto non abbiamo assolutamente dimenticato il progetto dell'interramento il progetto dell'interramento è il progetto che ci ha permesso di avere a bra prima il la SFM4 e poi di avere l'SFM4 elettrificata fino ad Alba perché senza quel progetto ambizioso e senza quella visione ambiziosa del nostro snodo noi saremmo nel 2007 2006 2007 quando il tratto di e fece una battaglia io allora ero all'opposizione e fece una battaglia a favore del insieme all'allora maggioranza del che però non assolutamente non fu reattiva come quanto era necessario relativamente al fatto che quelle erano considerate da ferrovie dello Stato linee rami secchi e il tratto Brac-Armagnola un tratto da sopprimere viceversa il fatto di avere inserito all'interno del piano regionale degli interventi la prima uscita dalla cintura torinese e lo spostamento da Carmagnola verso Brac-Armagnola del servizio ferroviario metropolitano un lavoro comune insieme al consigliere guida per portare a casa dei fondi che permettessero un primo elemento di copertura e la progettualità perché senza progetto non si va da nessuna parte in questi anni molti ci hanno detto e anche nelle prossime settimane probabilmente assisteremo a dichiarazioni ma con 3 milioni si può fare questo ma con 2 milioni si può fare quell'altro eccetera bisogna avere dei progetti preliminari senza un progetto preliminare senza uno almeno uno studio di fattibilità non si va da nessuna parte detto questo mi rendo conto che il nostro progetto è un progetto ambizioso che certamente è capitato in un periodo estremamente complesso abbiamo mano a mano con le nostre forze facendoci aiutare cercato di continuare la copertura di predisporre con i lavori della elettrificazione ciò che era possibile fare in questa direzione e per il resto continuiamo a ritenere che continuo soprattutto a ritenere che questa grande idea che vennero a spiegarmi un giorno in ufficio il consigliere Ferrero e il compianto assessore Beppe Bonetto è un'idea grandiosa per la quale ci auguriamo che esistano dei tempi in cui sia possibile avere delle opere pubbliche e un intervento sul ferro che veramente sia forte e permetta di affrontare le questioni relative all'ambiente e non soltanto a parole ma con i fatti detto questo credo che ovviamente ci siano punti di vista diversi ma anche sulla questione salita orti non è sparita non ce ne vergogniamo salita orti rimessa in sicurezza e frequentata comunque frequentata in questi anni ha permesso di non avere più incidenti questo è un dato è un dato importante è un dato da segnalare non ci sono stati più incidenti e questo ci sono stati incidenti gravi nella 231 ma non nella parte di discesa orti e questo elemento certamente è legato al fatto che la riduzione della velocità la riduzione della velocità è un elemento essenziale insieme al fatto che vi è una un senso di maggior controllo del sedime stradale e un lavoro molto importante che ha fatto ANAS per quanto riguarda l'asfaltatura certo al termine quasi al termine di un mandato ci sono molte cose di cui andare fieri e la cosa più importante è che in qualche modo già il presidente del consiglio lo accennava prima la cosa per cui vado molto fiera è che questa maggioranza in questi anni ha lavorato in assoluta continuità amministrativa rispetto all'attività della precedente amministrazione non avete mai sentito il sindaco o un assessore dire la tal cosa la tal'altra i lavori di strada orti di via cherasco avrebbero potuto essere fatti se sollecitati dalla provincia a suo tempo ben molto tempo fa perché il ribasso di cui mi onoro di avere il ribasso con cui si fanno gli interventi a cherasco e via cherasco fanno parte di un lavoro di cui credo di avere una parte di vanto insieme all'assessore Casoni in precedenza ma Casoni ebbe l'idea ma la giunta da Bresso mise i soldi della tangenziale di Sommariva Bosco dal ribasso della tangenziale di Sommariva Bosco quindi immaginatevi quanti anni fa risultarono una cifra di circa 4 milioni che chiesi venisse spese venissero spesi sul nostro territorio e le due salite che in quel momento erano più necessarie di intervento erano certamente Bergoglio che sicuramente era ancora più bisognosa di intervento rispetto a via cherasco e anche da questo punto di vista qualcuno può dire non sei stata egoista potevi tenerti tutti i 4 milioni ho ragionato che ho ragionato insieme ad altri che la salita Bergoglio era fondamentale la soluzione del problema di questa arteria così pericolosa così gravemente pericolosa così esposta continuamente a rischi e al tempo stesso l'avvio di un intervento per quanto riguarda la nostra via cherasco credo che il lavoro fatto in questi nove anni e qualcosa sia un lavoro in continuità con le amministrazioni precedenti sia dal punto di vista della presenza all'interno delle varie sedi istituzionali sia di grande rispetto dei livelli sovraordinati rispetto ai quali questa amministrazione e io per prima ci siamo comportati sempre con l'atteggiamento del confronto e della richiesta di con dei progetti a prescindere dal colore o dallo schieramento che in quel momento governava questo è stato il modo di operare di questa amministrazione che ha il vanto di portare questi risultati certo sarebbe stato più semplice agire e lo era si ricorderà si ricorderanno sicuramente molto bene con Terno e Marco Elena come era sempre difficile ma più semplice fare i bilanci quando non c'erano i tagli di oltre 4 milioni di euro come quelli che abbiamo avuto in questi anni e nonostante questo quando si poteva assumere le persone che andavano in pensione e non faticare in questo modo e avere del personale che man mano diventa più anziano e anche a volte eccessivamente stressato a cui si chiede a cui si chiede molto a cui si chiede molto e a cui va la mia gratitudine per il grande lavoro che producono nell'interesse della collettività detto questo credo che ci siano sicuramente delle differenze non ho mai votato a favore di un bilancio di una maggioranza diversa dalla mia e sono intervenuta sempre criticando e trovando gli elementi questo fa parte delle regole del gioco della democrazia però credo che nessuno nessun comune qui intorno possa lamentarsi della nostra amministrazione per la disponibilità data quando hanno non guardando il sindaco come schierato come ma immaginando che insieme ci si può aiutare con la CUC piuttosto che fornendo il servizio dei vigili quando avevamo più vigili in forza e quindi eravamo in grado di poter prestare questi servizi e credo che questo sia il modo di operare di una amministrazione che sa stare al proprio posto sa che esiste una minoranza con cui ci si confronta e che non condivide e a volte condivide ma gioco forza ti dice che non che non va bene quello che hai pensato immagino per esempio i lavori di Via Principi che sono stati una sorta di telenovela sul che non andavano bene per questo per quell'altro per quell'altro ancora e che sono una realizzazione di tutti per tutti per tutta la città e questo è credo l'elemento più importante di cui sono grata ai colleghi assessori e a tutti i consiglieri di maggioranza che con delle deleghe hanno lavorato e di minoranza che hanno stimolato attraverso interrogazione attraverso sollecitazioni attraverso momenti di confronto che non sono mai mancati chiunque chiunque ha avuto una qualche idea o sollecitazione ovviamente si è confrontato e poi questo non vuol dire che debba essere condiviso c'è un tempo in cui si amministra e c'è un tempo in cui si sta all'opposizione non sarei così drastica nel dire questo è un dupe fatto per i prossimi tre anni quando voi non ci sarete e chissà come saranno mai le elezioni quindi lasciamo che siano i cittadini a valutare quello che è stato fatto in con un grandissimo impegno da parte nostra con il massimo della correttezza della trasparenza ma soprattutto con il grande aiuto dei nostri collaboratori perché noi da soli avevamo molte idee ma non avremmo realizzato certamente queste cose se non avessimo dei collaboratori molto validi su cui poter contare grazie al sindaco per fare una battuta di quello che capiterà nel 2019 ovviamente ne parleremo DUP prego consigliere Tripodi grazie presidente permettetemi una una battuta dall'ultimo intervento del sindaco mi sembrava quasi un intervento di conclusivo di diciamo di un'epoca diciamo di un decennio e le chiedo semplicemente noi siamo minoranze noi siamo fatti ci siamo qua apposta ancora di abbiamo ancora qualche mese da governare quindi eh tra le parole leggevo questa quasi accomodamento per noi nel DUP ci è scritto molto nei mesi passati si è fatto anche molto siamo il gruppo che ha mai nulla è sempre stato molto chiaro molto onesto molto concreto ma è detto che l'amministrazione Sibile abbia fatto nulla abbiamo sempre detto che l'amministrazione Sibile ha fatto ma è anche vero che abbiamo sempre cercato di dare il nostro punto la nostra visione il nostro contributo in tutte le scelte che questa amministrazione in un decennio comunque ha messo in atto questo DUP un po' come quelli scorsi appunto un documento importante dove diciamo è il più importante perché si definisce l'azione politica di un triennio del prossimo triennio dell'amministrazione che noi ci auguriamo di poterlo essere noi a governare quel triennio è logico voi in questo momento vi dovete trovare a svolgere quello che è l'ordinaria amministrazione e quindi presentare questi documenti con una vostra visione noi crediamo sicuramente che in questo documento ci siano delle cose da dire a partire tocco veramente a a temi perché hanno altri colleghi hanno già toccato altri discorsi dal rapporto di vista la mobilità sostenibile la nostra viabilità cittadina le nostre piste ciclabili la manutenzione di queste la manutenzione ordinaria delle strade è vero che è una delle prime volte che si vede inserire a bilancio un investimento che è di quasi 300 mila euro per poter fare una manutenzione straordinaria delle strade ma queste strade nell'arco degli anni precedenti vi ricordo che sono in condizioni pessime e nelle nostre interrogazioni abbiamo sempre avuto modo di farlo emergere come abbiamo fatto emergere la manutenzione delle piste ciclabili come abbiamo fatto emergere che le piste ciclabili anche se nei documenti viene detto che dovranno essere rafforzate non sono mai state rafforzate perché rafforzate non significa soltanto prolungare le piste ciclabili ma anche mantenerle in un stato degno in questo documento non si ricorda che la città di Bra fa parte di un territorio un territorio un pochettino più generico mi sono piaciute le parole nell'intervento del sindaco dove parlava di proceduralità oltre confine di scese del Bergoglio via Cherasco che collega appunto la nostra città con un altro comune ma non ci sono termini non ci sono scadenze non ci sia nulla di concreto quanto riguarda quello che è l'ospedale di Verduno che fa parte della nostra sanità o c'è scritto ma c'è scritto troppo poco tutto molto aleatorio perché tramite informazioni così tramite notizie derivate così informalmente ci dicono che o magari da organi di stampa ma sono semplicemente notizie ci dicono che l'ospedale di Verduno aprirà magari anche tra qualche mese ma non sappiamo minimamente di cosa che cosa ne sarà della viabilità per arrivare l'ospedale di Verduno sicuramente abbiamo compreso che se si parla di progettualità qualche pecca nella progettualità anche nella realizzazione dei lavori tra Bergoglio e la strada di via Carasco non c'è stata anche perché sicuramente una diciamo un cronoprogramma diverso ci potrebbe essere stato ci sarebbe potuto essere diverso perché questo sta provocando comunque forti disagi a coloro i quali devono attraversare il nostro territorio non si capisce bene che cosa si vorrà fare del nostro ospedale c'è scritta semplicemente una riga che cos'è il pronto soccorso che cosa succederà del pronto soccorso di Bra che cosa succederà dell'ospedale Santo Spirito di Bra in che termini in che giorni in che momento perché questo riguarda la sanità locale adesso siamo arrivati alla fine parte conclusiva della realizzazione dell'ospedale di Verduno a quanto pare quindi noi dobbiamo avere già in maniera molto certa e molto chiara come consiglieri comunali e come rappresentanti delle istituzioni le idee chiare e poter spiegare ai nostri cittadini quali sono i tempi concreti certi di questo trasferimento e se pur essendo consigliere di minoranza ma pure fosse anche consigliere di maggioranza io pretenderei di poter dare delle risposte certe a chi lavora all'interno a chi invece dovrà semplicemente andar lì per problemi di salute in che modo ci andrà con che strada ci andrà e toccando il discorso della discesa degli orti secondo lei signor sindaco secondo lei la salita degli orti all'interno della salita degli orti non vi sono incidenti stradali perché si sono inseriti dei velox o perché si sono fatti marciapiedi domando no è normale nel momento in cui si inseriscono la velocità controllata e dopo una serie una serie numerosa di multe da parte cittadina è giusto perché sono giuste perché andavano oltre i limiti allora lì hanno creato una riduzione degli incidenti ma quanto so e a quanto ricordo un costo di una colonnina è di 10 barra 15 mila euro 10 mila euro o 2 mila no scusa 2 mila e 500 euro mi ricordo per quanto riguarda via le madonna fiori se quello fosse stato l'obiettivo certo quello di ridurre gli incidenti i marciapiedi non sarebbero serviti e magari quei soldi li avremmo spesi in quello che adesso è la prima cosa che mi viene in mente ma quei 150 mila euro magari il contributo l'avremmo dato noi all'ATC per fare e per mettere a posto quelle 10 case di alloggi popolari per concluderle e magari aiutare delle famiglie bisognose abbiamo ancora qui nel patrimonio del nostro comune qualcuno mi ha già preceduto Palazzo Garrone ne votammo in maniera contraria forse gli unici al cambio di destinazione d'uso perché per la nostra visione quel palazzo sarebbe stato utilizzato peraltro quella sarebbe stata veramente la piazzetta della cittadella del comune la cittadella comunale con tutti i servizi tutto qui e invece abbiamo cambiato la destinazione non sappiamo perché all'interno del documento non c'è scritto nullo del futuro del giudice di pace quindi significa che sono tutte parole quello che dice la maggioranza che è obiettivo il mantenimento del giudice di pace all'interno di Palazzo Garrone è la continuazione di quella convenzione ma nel dubbio non c'è scritto di far tornare e di fare un'azione forte per fare tornare il giudice di pace nel dubbio non c'è scritto si tratta di tre anni Movicentro eccoli un'altra opera sicuramente qua non sono qui a dare giudizi di colpe non colpe quello non è nostro compito sicuramente è nostro compito amministrarlo sapere veramente quale sarà il suo utilizzo in maniera definitiva sono dieci anni ma è stato costruito già prima dalla vecchia amministrazione adesso sono passati quasi quindici quindi azioni anche forti per quanto riguarda la scelta dell'utilizzo di quell'importante opera comunale tornando alla variazione di bilancio precedente alla quale abbiamo dato il nostro parere negativo tra quei capitoli e anche nell'intervento dell'assessore al bilancio abbiamo potuto ascoltare che ci vi era un aumento di 70 mila euro per quanto riguarda le bollette dell'energia elettrica perché vi è un aumento dei locali da riscaldare da raffreddare allora da questo punto di vista ricordo che questo non deve accadere non dovrà accadere in futuro perché innanzitutto vorremmo sapere per quali locali abbiamo dovuto utilizzare più energia elettrica a me sarebbe piaciuto sentire voci di bilancio o comunque leggere di voci di bilancio che vedessero scendere questa questa le bollette di energia per tutte le opere che sentiamo e leggiamo nei giornali questa amministrazione ha fatto per l'efficientamento energetico che forse non sono state abbastanza non si riesce a comprendere in maniera chiara l'obiettivo per quanto riguarda il nuovo o comunque non è che non si riesce non abbiamo condiviso parte della nuova convenzione fatta per per la 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 gestione della successistenza quindi chiediamo ancora ancora nei prossimi anni quella di una maggior condivisione con le realtà locali con i gruppi di interesse locali lavori pubblici come ben diceva il consiglio del Ferrero molte pagine molte pagine rifacimento dello stabile ex mattatoio sto in silenzio interramento della stazione ferroviaria sto in silenzio anzi visto considerato che il sindaco ha intervenuto prima dico una parola perché io non siamo d'accordo sul fatto che fu quel progetto lì a dar poi vita a quello che è stata il servizio ferroviario metropolitano e all'ettrificazione della linea ferroviaria di Alba e poi cosa dire ancora noi come mi piace sempre ribadire che ogni nostra azione ogni nostro intervento ogni nostra volontà di contribuire in quello che è il nostro ruolo da minoranza da dare impulso vede signor sindaco mi ha fatto quasi paura vede sentire prima il suo intervento perché mi sembrava quasi un accomodamento a parte sua per dire boh è finita qui eh no aspetta è ancora finita qui abbiamo ancora qualche mese e come ben sa e come ben sa tutta quanta la maggioranza noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilità ma siamo sempre stati molto duri e molto chiari rispetto anche a quello che sono le priorità della nostra città la nostra città fa parte di un sistema questo lo continuo a ribadire e lo continueremo a ribadire sempre io spero e noi speriamo che gli incontri con l'asticune o con il ministro diano poi notizie positive ma forse sarebbe stato anche importante sindaco che prima di andare dal ministro magari una conversazione oltre in conferenza capigruppo si facesse in maniera più dettagliata e magari in maniera un po' più diciamo analitica di quello che potrebbero essere le nostre proposte come comune di Bra e come parte di un sistema e poi ci vede veramente preoccupati questa cosa qui è molto chiara il futuro del nostro ospedale e il futuro dell'ospedale di Verduno questo a conclusione ad oggi del suo mandato sappia che mi lascerà in silenzio per quello che gli ho detto e mi lascerà preoccupato con queste due con queste due opere e credo che tale sentimento di preoccupazione è un sentimento che penso di poter condividere con gran parte della cittadinanza grazie grazie a lei consigliere aveva chiesto la parola al consigliere Marengo ricordo che dopo il primo intervento ci sono ancora a disposizione cinque minuti per repliche ed eventualmente altri cinque per dichiarazione di voto questo vale l'ultima vale per il capigruppo e per i non capigruppo solo si è in dissenso dal proprio capogruppo prego consigliere grazie presidente mi sono segnato alcune cose che sono state dette e che insomma in qualche modo mi hanno fatto riflettere molto faccio una piccola premessa il fatto di appartenere ad una lista civica anche se orientata politicamente lascia molto la mente libera perché per fortuna non devo rispondere a nessun partito e a nessun padrone politico quindi giudico quello che vedo e se è vero che oggi possiamo avere un'elettrificazione quindi della linea ferroviaria Braalba e che quindi sia stato raggiunto un risultato positivo pur con tutte le problematicità dei ritardi dei treni che si sono avuti in questi mesi da quando l'elettrificazione da quando vi è stata l'elettrificazione partita la nuova linea il risultato è sicuramente positivo però mi sembra un po' la foglia di fico perché noi non abbiamo parlato di elettrificazione noi abbiamo parlato di interramento dei binari oramai se ne parla non so più da quanti anni le ultime campagne elettorali sicuramente da parte di questa amministrazione non si vede un risultato ci piacerebbe avere una parola chiara su questo ecco magari forse sarebbe eticamente più corretto da parte di un amministratore dire per quanto vorremmo e desideriamo poterla concludere non ci sono le possibilità di farlo questo sarebbe già una presa d'atto che secondo me farebbe bene alla politica in generale e stradaorti che non ci siano più incidenti non è vero incidenti ce ne sono stati in questi anni certo per fortuna non gravi ma se ricordate bene avevamo proposto come centrodestra l'attivazione di una app che poi è stata accolta dalla maggioranza e l'app è stata poi attivata nei mesi scorsi anche se con notevole ritardo il nostro intento era proprio questo cioè segnalare attraverso questa app eventuali incidenti sul territorio braidese per evitare che si formassero code io proprio nel mio intervento lo ricordo come fosse ora avevo parlato di stradaorti perché stradaorti era il tratto diario più trafficato dove più alta era la possibilità di incidente dove più alta di conseguenza la coda che si sarebbe formata in caso di questo incidente poi ovvio stiamo parlando di tre autovelox messi a distanza di poche decine di metri l'uno dall'altra è ovvio che la velocità per fortuna viene ridotta il patto di stabilità è stato accennato al patto di stabilità ma il patto di stabilità colpisce tutti i comuni colpisce purtroppo quelli virtuosi come quelli non virtuosi sono d'accordo con chi ha detto che con le risorse che si hanno a disposizione si è fatto del buon lavoro e colgo l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti pubblici dal primo all'ultimo perché senza di loro veramente nessuna amministrazione indipendentemente dal colore potrebbe mai fare un qualcosa di positivo si è parlato di via principi noi di via principi abbiamo avuto alcune perplessità le abbiamo queste perplessità esternate spesso nelle commissioni competenti commissioni lavori pubblici sostanzialmente e ci siamo battuti per il porfido per avere il porfido in via principi mentre invece in prima battuta questa amministrazione proponeva una bella asfaltatura che secondo me avrebbe degradato decisamente il centro cittadino avevamo detto in tutte le salse che i materiali per la costruzione dei marciapiedi sotto i portici di via principi erano sbagliati l'abbiamo detto in tutte le salse nelle commissioni questi materiali sono stati scelti oggi lo vediamo sono sporchissimi perché quando si sporcano purtroppo non basta lavarli la pietra di luserna si impregna subito e viene viene sporcata e resta purtroppo lo sporco quindi crediamo di aver dato un contributo non è stato preso in considerazione ci mancherebbe altro l'amministrazione attuale ha vinto le elezioni si deve assumere l'onore e l'onere di governare e amministrare quindi facendo anche delle scelte magari non so provare ogni tanto a sentire anche i tecnici che in qualche modo possono intervenire nelle commissioni sicuramente male non avrebbe fatto e ultima finisco sul fatto sull'informazione diceva bene il consigliere Tripodi prima che un passaggio del sindaco che mercoledì andrà a Roma dal ministro si poteva avere anche in conferenza capigruppo giusto per coordinare magari per dare qualche proposta potremmo anche dire la nostra non solo noi di minoranza ma tutti i commissari anche di maggioranza purtroppo questo è il deficit di questa amministrazione un'amministrazione che di informazione ne ha dato poco faccio un esempio banale ma importantissimo l'ato se non fosse stato per la nostra interrogazione l'anno scorso non si sarebbe neppure parlato di altro oggi c'è un ricorso fatto al TAR da una ventina di comuni tra l'altro alcuni comuni che erano nell'area di competenza del Bredese e quindi rappresentati in atto dal sindaco e non si sa nulla magari una capigruppo avrebbe potuto in qualche modo far capire ai commissari e ai consiglieri quello che sta avvenendo e invece ci dobbiamo sempre informare attraverso le nostre fonti quindi il mio intervento che spero possa essere stato esaustivo per quanto riguardava alcune risposte che erano secondo me doverose visto gli interventi precedenti continua a lasciare un senso di inappagatezza riteniamo che questo DUP sia un documento da rispettare perché proposto da una parte politica chiudo presidente ma che certamente non può incontrare il nostro favore grazie grazie a lei consigliere Marengo grazie a tutti non ci sono più interventi ci sono ancora perché poi lascio ancora la parola all'assessore Fugliato prego consigliere Somaglia prego solo per la dichiarazione di voto e per alcune brevissime considerazioni riguardo all'intervento del sindaco l'ha già ricordato il consigliere Marengo noi per quanto riguarda strada Orti abbiamo sempre detto che era un investimento eccessivamente oneroso soprattutto per la parte dei marciapiedi mentre per quanto riguarda la parte viaria anzi più volte con interrogazioni se non ricordo male abbiamo richiesto l'intervento dell'amministrazione sull'ANAS affinché soprattutto nel tratto al fondo quindi quello che purtroppo ha causato nel tempo parecchi incidenti stradali si intervenisse con tipologie adatte di asfaltatura zigrinature piuttosto che altri interventi in quel senso lì e quindi è sicuramente una strada altamente frequentata sicuramente non dai pedoni signor sindaco la frequentiamo tutti quotidianamente pedoni se ne vedono veramente pochi per quanto riguarda il discorso dell'interramento che è cosa diversa rispetto alla copertura rispetto all'elettrificazione sicuramente sicuramente è un'iniziativa grandiosa ma alla grandiosità deve corrispondere la realizzabilità perché se no rimane un sogno nel cassetto che per adesso è stato un sogno decisamente oneroso e una cosa ci ha trovato d'accordo ne parlavamo prima con consigliere Elena la sinergia tra amministrazioni noi quando abbiamo amministrato l'abbiamo sempre perseguita tutte le volte che lei ha presentato delle problematiche o dei progetti che dovevano far sinergia col territorio e con i comuni con gli enti sopra ci ha sempre trovati d'accordo e abbiamo sempre portato il nostro contributo e cercato di nel limite delle nostre competenze di appoggiare se ritenevamo corrette le iniziative quindi anche su via Cherasco io ricordo quando ero consigliere comunale presentai ben due interrogazioni è una storia annosa che ci portiamo avanti penso ormai da una ventina d'anni penso quindici eh quindici una quindicina d'anni e finalmente finalmente arriva la realizzazione seppur con le problematiche causate alla viabilità che qualcuno ricordava però per carità siamo abituati a fare i conti con il traffico caotico e con una viabilità che per quanto riguarda la nostra città ci auguriamo che con la realizzazione speriamo prima o poi speriamo in notizie positive per quanto per l'incontro di mercoledì sperando che ci sia perché oggi qualcun altro non persegue quegli obiettivi di territorio e di collaborazione tra l'amministrazione che invece seppur nelle parti decisamente divise che ha sempre visto l'amministrazione politica italiana nel passato gli obiettivi quando ritenuti corretti e giusti e non pretestuosi sono sempre stati insieme perseguiti grazie ah si ho preso la parola per dichiarazione di voto poi non la facevo il nostro gruppo darà parere contrario al dub presentato grazie grazie consigliere Somaglia prego il sindaco devo dare atto che nel mio intervento ho due dimenticanze una effettivamente la minoranza è stata quasi totalmente non tutti ma quasi totalmente sempre allineata sulle problematiche di carattere generale di questo devo dare atto ma questo è una caratteristica che ci fa onore che ci fa onore perché vuol dire che crediamo come giusto tra un attimo quando parleremo della delibera numero otto è un elemento decisamente importante e un elemento che ho dimenticato prima a cui tengo parecchio è questo credo che vada bene le questioni abbiamo ben chiaro le problematiche relative all'economia eccetera però in questo momento dal punto di vista degli interventi di attività produttive ARPA OMLER Barservizi Selmi quattro aziende che stanno iniziando o inizieranno nel giro di poco i propri lavori questo va nella direzione di nuovi posti di lavoro in maggiore economia e quel che può fare e ringrazio ovviamente il presidente della commissione urbanistica e tutta la commissione urbanistica e la ripartizione per il lavoro che viene fatto per la preparazione delle variantine e poi il consiglio quando le discute dimenticavo Bosso che è stato il primo bene consigliere Tripodi ha chiesto la parola prego chiudo scusa consigliere Paniero consigliere Paniero grazie presidente sono così ingrassato allora il mio intervento era per la dichiarazione esclusivamente per la dichiarazione di voto ma non posso ritirarmi da due considerazioni la prima non la foro più perché il sindaco tra virgolette ha corretto o se ha corretto tra virgolette il tiro perché come opposizione noi non abbiamo sempre votato no solo perché ricopriamo questo ruolo e ha ben ricordato come in ambito urbanistico e non solo quando le problematiche erano condivise si è andati sempre tutti nella stessa direzione quando era per aiutare in un momento così difficile delle imprese delle aziende chiunque a creare posti di lavoro a creare quello che si diceva prima migliorare la qualità della vita di questa città ci siamo sempre trovati favorevoli e d'accordo però non posso non fare una considerazione quando vengono definiti i nostri interventi sui lavori di via principe una telenovela allora noi anche in quel caso mai ci siamo espressi contrari a quei lavori quei lavori erano necessari quei portici e in maniera particolare la pavimentazione di quei portici erano veramente in una situazione di degrado sottolineiamo il fatto che quella pavimentazione era lì da più di 40 anni cos'è che di questi lavori non ci ha convinto e non ci convince ancora mai abbiamo detto che questa amministrazione non ha fatto niente o non ha fatto nulla mai tutte le volte che ci incontriamo per la città dei cittadini e parliamo da me dal sottoscritto come gruppo mai ci siamo sognati di dire una bugia del genere perché sarebbe stata una bugia esclusivamente politica mai fatto certo che invece come in questo caso abbiamo espresso delle perplessità sulla qualità dei lavori abbiamo presentato interrogazioni in maniera particolare sulla qualità della pavimentazione che è stata sostituita i lavori sono stati fatti ma secondo il nostro punto di vista tecnico in alcuni casi fatti male quando il progettista o il direttore dei lavori in commissione mi viene a spiegare e io sono anche un piccolo operatore del settore che aveva a disposizione una certa cifra doveva rifare una certa quantità di portici ha preso questa cifra la divisa per i metri quadrati dei portici e il risultato una cifra è quella la spesa che aveva a disposizione per la sostituzione della pavimentazione e quella ha utilizzato bene questo noi non lo condividiamo dal punto di vista tecnico se i soldi non erano necessari per mettere una pavimentazione primo sottolineato la pavimentazione che era presente durava da 40 anni quella che è stata messa e nell'interrogazione se è tutto registrato ormai si può andare a vedere lo stesso forniproduttore delle piastrelle si è espresso dicendo che non l'avrebbe mai messa in un contesto di quel tipo lì non dureranno la stessa durata d'anni la piastrella che è stata definita come marmo non è un marmo è una piastrella di grass con un finissimo strato finale a finitura marmo è diverso avevamo anche sottolineato come delle prove su quelle piastrelle facessero vedere come a un piccolo passaggio di una levigatrice sopra subito lo smalto finale diciamo la finitura pietra spariva e era evidente il grass sottostante quindi la criticità era sulla qualità dei materiali se i soldi non erano sufficienti per realizzare tutti i metri quadrati dei portici la soluzione tecnica che noi avremmo adottato era farne una parte incominciare a farne una parte ma con materiali migliori di maggiore qualità certo costavano di più è ovvio e aspettare di realizzare la seconda parte quando le finanze rendevano possibile un lavoro di alta qualità o comunque un lavoro che potesse durare lo stesso numero di anni di quello che veniva sostituito e questo vorrei che fosse chiaro perché non abbiamo criticato penso che nessun cittadino ma nessuno avrebbe potuto affermare tantomeno noi che siamo qui rappresentanti in rappresentanza di alcuni cittadini di cittadini che ci hanno voluto qui che i lavori non erano necessari ma sarebbe stato necessario realizzarli secondo il nostro punto di vista con maggiore qualità non realizzarli solo per poter mettere nel curriculum dell'amministrazione sono stati rifatti tutti i portici di via principe no poteva essere scritto sono stati rifatti i portici di qualità con materiali di qualità in modo ma basta fare un giro lo facciamo tutti vedere il raccordo tecnico alcune piastrelle sono già rovinate tra il raccordo tra i diversi materiali questo da a poco tempo dalla realizzazione dall'idea e ripeto non trovo colpe nel progettista non trovo colpe nel direttore dei lavori non trovo colpe nel realizzatore dei lavori non hanno colpe loro avevano delle cifre e quelle hanno utilizzato forse le indicazioni dovevano essere quelle che se la cifra non era sufficiente per realizzare un lavoro di alta qualità doveva esserne realizzata solo una parte e questo ho fatto questo esempio perché è stato chiamato in causa ed è stata definita come telenovela e con questo indirizzo in questo indirizzo per questo indirizzo noi riteniamo che alcuni interventi fatti da questa amministrazione non ci trovano d'accordo ripeto per l'ennesima volta non perché non erano necessari ma perché qualitativamente non riscontrano le nostre aspettative o le aspettative dei cittadini che qui rappresentiamo per concludere non può che il nostro voto essere contrario a questa proposta di delibere e a questo dupe grazie grazie a lei consigliere ma io mi permetto di fare mi permetto di fare una semplice riflessione non entro nel merito perché è già stato sviscerato bene ovviamente dall'assessore e anche poi da chi mi ha preceduto della maggioranza ma se un cittadino oggi fosse entrato in questo momento in questi ultimi momenti in questi ultimi minuti sarebbe stato indotto a una confusione tra il documento unico di programmazione che per definizione riguarda gli anni a venire dal 19 al 2021 e il passato recente io non entro nel merito ci mancherebbe ciascuno il diritto di dire quello che vuole però ogni tanto scusate un po' la deformazione professionale ma mi viene in mente di fare qualche considerazione una volta si diceva andare fuori tema ecco ho paura che parlare dei portici di via principi parlare dei marciapiedi di via di strada orti e altri argomenti problematiche che sono state affrontate via via in questi in questi anni in questa sede mi pare un po' appunto fuori fuori tema poi ripeto ci sta tutto ci sta la considerazione politica ci sta la rimenticazione del proprio punto di vista coerentemente portato avanti e ribadito in tutte le occasioni ci mancherebbe altro ma così se mi permetto ecco di suggerire un la necessità di ritornare sull'argomento il documento unico di programmazione per definizione è un documento che guarda al futuro certo è ovvio che nelle pagine di un documento così corposo ci sono anche riferimenti a quello che è stato fatto ma fossilizzare l'attenzione e come dire utilizzare i minuti a disposizione per parlare di argomenti che sono molto settoriali non esauriscono il DUP per quello che a maggior ragione io ribadisco la bontà di questo lavoro che veramente a 360 gradi cerca ma cerca come tutti gli strumenti di questo mondo di realizzare un disegno complessivo uno sguardo complessivo sulla città prendendo atto delle risorse delle difficoltà finanziarie dei problemi di ordine economico eccetera 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 quindi sarebbe forse auspicabile rispondere nei termini che l'argomento richiederebbe forse cercando ma ripeto non è sicuramente non è una critica non è una considerazione negativa ripeto ciascuno usa i propri minuti e dice le cose che vuole dire e ci mancherebbe ancora ma lo do come veramente contributo alla discussione magari cercando di allargare il discorso e parlare in una prospettiva di medio termine i consiglieri tutti i consiglieri maggioranza e minoranza se non sono soddisfatti da determinati lavori in certe strade in certe zone o in generale dall'operato dell'amministrazione ciascun consigliere ha tutti gli strumenti sufficienti e necessari per far sentire il proprio parere negativo dalle interrogazioni alle emozioni eccetera eccetera in questa sede mi permetto di dire qualcuno forse è andato un po' fuori tema ribadisco il lavoro svolto in modo egregio per una visione di città così come è stata effettuata così come è stato prima relazionato da chi mi ha preceduto da parte della maggioranza e do atto come ha fatto il sindaco e che in moltissimi casi la minoranza non ha soltanto espresso un parere come dire perché così doveva dire ma ha collaborato spesso anche molto bene nelle questioni cruciali che interessano la città non è partito non ha non ha seguito diciamo così un partito preso soltanto perché quella era la posizione e quindi inviterei o inviterei non invito proprio nessuno ribadisco dal mio punto dal mio punto di vista ribadisco che questo tipo di argomento probabilmente richiederebbe una sorta di attenzione che va al di là dello stretto contingente ma riesce a spingersi anche su visioni un po' più larghe nel tempo come appunto dice la stessa parola documento unico di programmazione 2019 e 2021 opinione ovviamente del tutto personale c'era il consigliere Elena poi mi pare Marengo e poi l'assessore prego sì grazie presidente sicuramente andrò fuori tema adesso intervenendo dopo di lei no ma anch'io la penso anch'io come lei da quel punto di vista perché lo dice la parola stessa documento unico di programmazione un documento che fa diciamo una fotografia di quello che è lo stato di fatto attuale di quanto è stato fatto di quanto chiaramente si vuole fare in prospettiva nei prossimi anni chiaramente come ha detto già qualcuno e anche ha detto il sindaco qui è un po' un pochettino mi scusi il termine un po' il gioco delle parti perché è chiaro che ci sono i consiglieri di maggioranza che sono intervenuti giustamente facendo la loro parte egregiamente dicendo sostenendo quanto ha fatto l'amministrazione nei programmi passati e sostenendo anche quanto vorrà fare per il futuro sciorinando anche una serie di cose che sono state fatte e chiaramente questo fa sì che come consiglieri di minoranza è chiaro che si ribatte dicendo facendo anche degli esempi su cose che sono state fatte adesso non mi sto a soffermare chiaramente su stato detto di stradaorti che ha detto bene il mio capogruppo ma anche altri consiglieri l'abbiamo già detto in passato che chiaramente noi non condividevamo non i lavori su stato di stradaorti sulla messa in sicurezza e ci mancherebbe altro condividevamo il discorso dei marciapiedi magari proprio in termini di programmazione ad esempio noi al contrario magari preferirevamo ad esempio mettere in sicurezza il punto nevragico davanti alla stazione dove c'è un traffico pedonale veicolare ciclabile mischiato e quindi avevamo già fatto anche esempi in altre assemblee consigliari però questi sono esempi che lo so che vado un pochettino fuori tema però sono esempi del passato e chiaramente anche sul discorso programmatico futuro magari abbiamo visioni diverse chiaramente uno può fare degli investimenti abbiamo degli esempi ad esempio c'è il discorso non so a che punto sia dello spostamento della scuola vicino a Moicentro che noi non condividiamo poi per carità di Dio fa parte secondo me di una sana democrazia mi sembra che questa sera non ci sia nessun cioè ognuno fa la sua parte che spone le proprie idee entrando anche nel merito dei temi che vengono trattati poi condivido con il sindaco la ringrazio anche che qualità appunto di presidente della commissione urbanistica e l'ho detto anche nell'ultimo consiglio comunale ha fatto bene a ricordare le varianti parziali che sono state fatte e questo per un'amministrazione comunale io l'altra volta ho detto ci troviamo anche una volta alla settimana una volta al mese basta che ci sia sempre rispetto di tutte le regole che ci siano aziende che vogliono ampliarsi che vogliono insediarsi creando benessere lavoro e quindi migliorando anche le infrastrutture come succederà appunto da alcuni lavori di queste che verranno fuori da queste iniziative e di queste aziende che sono insediate sul territorio e ribadisco il fatto che hanno già detto anche i miei colleghi dal punto di vista della minoranza quando ci sono delle cose ma questo in tutti questi anni l'abbiamo sempre fatto ci siamo sempre confrontati se sono cose che condividiamo noi abbiamo sempre in commissione ma anche in questa sede abbiamo sempre dato cercato di dare il nostro apporto anche votando positivamente quando quando ritenevamo che le cose siano cose positive per la nostra città e per il territorio e continueremo a farlo se anche io ho avuto un po' l'impressione che anche dal discorso del sindaco mi sembrava che tra due mesi si vada già a votare ho detto cioè no i mesi passano in fretta effettivamente io non ci ho nemmeno pensato a questo però fa parte della natura delle cose è giusto che sia così perché effettivamente anche su alcune come ha detto il sindaco su alcune tematiche generali siamo anche sempre stati abbiamo sempre condiviso abbiamo condiviso delle emozioni il tribunale l'asticuneo adesso io non entro nel merito se mercoledì ci sarà questo incontro penso che il sindaco possa possa rappresentarci in modo egregio poi a prescindere da se fare una conferenza capigruppo questo io non entro nel merito penso che le tematiche l'abbiamo già sviluppate talmente tanto che ormai le idee siano talmente chiare su queste su queste problematiche diciamo grandi problematiche che sono l'asticuneo e l'ospedale di Verduno su alcune tematiche anche a livello generale però ad esempio la cito l'ha già citato il collega Marengo magari non siamo non eravamo molto allineati parlo ad esempio del ciclo idrico della gestione delle acque l'abbiamo l'abbiamo detto abbiamo fatto delle interrogazioni delle emozioni non siamo ad esempio anche allineati ma non sulla tematica sul discorso della riduzione della tassa rifiuti so che è un argomento difficile so che il consorzio che gestisce però c'è visto visto che i risultati di raccolta differenziata stanno sempre di più aumentando e meno male visto che ci sono anche degli effetti positivi per quanto riguarda le aziende che trattano si è visto prima nella varazione bilancio come ha già citato il consigliere che c'è una distribuzione di so di circa 30.000 euro cioè magari prendere in considerazione di andare verso anche una anche con dei piccoli segnali verso una riduzione della di questa delle tasse della tassa rifiuti niente concludo non è che non esprimo voto diverso rispetto a mio capo gruppo condivido quanto ha detto il mio capo gruppo e il nostro voto sarà negativo grazie grazie a lei consigliere Elena aveva chiesto la parola al consigliere Marengo prego grazie presidente solo per la dichiarazione di voto e per ribadire sostanzialmente quello che ho detto nei miei due interventi precedenti credo di parlare anche mi correga a nome del consigliere Panero perché in qualche modo ci siamo sentiti un po' tirati per le orecchie del suo del suo intervento no in realtà no perché questa chiamiamo la tiratina di orecchie ma in maniera molto amichevole in realtà è un po' fuori luogo secondo me primo perché gli esponenti della maggioranza che hanno presentato il DUP hanno parlato di continuità tutti gli interventi sono stati dettati dalla continuità di questo DUP con le politiche precedenti poi mi perdoni non si deve uscire fuori tema ma se lei prende il DUP a pagina 12 le leggo la frase per quanto concerne la riqualificazione ambientale dell'area urbana centrale un decisivo intervento è stata la riqualificazione delle vie Vittorio Emanuele via Principe di Piemonte via Cavour in particolare si è trattato di un intervento che ha consentito una riqualificazione dell'assetto urbano e diario attraverso opere di pavimentazione stradale con demolizioni e rifacimenti opere di scavi e sottoservizi opere di illuminazione pubblica oltre all'inserimento di un nuovo arredo urbano pagina 12 quindi come si suol dire non siamo andati assolutamente fuori tema le nostre argomentazioni sono di natura esclusivamente politica perché il DUP è un documento politico quindi il consigliere comunale che prende la parola deve essere libero di esprimere come giustamente lei ha ricordato la sua opinione ma nessuno è uscito fuori tema proprio perché queste argomentazioni che noi abbiamo trattato sono presenti in parte in gran parte nel DUP stesso pagina 12 ripeto per chi vuole controllare e in secondo luogo proprio perché chi ci ha preceduto dell'amministrazione presentando il DUP ha parlato di continuità quindi non si può guardare solo al futuro si deve guardare anche quello che è stato realizzato fino adesso il programma se è continuativo rispetto ai programmi degli anni passati questo non può che essere in qualche modo ricollegato a quello che è stato il nostro intervento mio e credo anche del consigliere Panero per cui in questo momento sto anche parlando quindi fate tutte queste considerazioni legate anche al fatto che non voglio più tornare ma non stiamo più a perdere tempo il mio intervento però mi sono dimenticato di dirlo prima per quanto riguardava strada orti non era tanto e l'hanno detto bene i colleghi che mi hanno poi seguito non era tanto sulla messa in sicurezza della strada quanto sulla necessità di costruire un marciapiede opera a mio giudizio totalmente inutile proprio per queste motivazioni il mio giudizio come ripeto non può essere che negativo così come il nostro voto grazie grazie a lei consigliere mi pare che tutti ci siano espressi le dichiarazioni di voto ci sono state e quindi non ci sono se non ci sono più interventi allora la discussione è chiusa consigliere Tripodi è uscito sì voleva intervenire ma stava parlando purtroppo per problemi e per impegni è dovuto uscire mi ha detto ovviamente avrebbe votato contrario non è uscito ok grazie in realtà mi sono dimenticato di lasciare ancora non è finita la discussione perché c'è l'assessore Fogliato che già penso un'ora fa mi aveva chiesto di intervenire quindi prego assessore grazie beh no diverse cose le ho tolte dopo l'intervento del sindaco ho estrapolato solo 4-5 punti fedele a quello che è stato richiamato prima di chiarezza e dati oggettivi io credo che usando il termine chiarezza e dati oggettivi alcune cose che ho sentito si possono vedere da un'altra parte primo vado per punti diversi primo lavoro noi dieci anni fa prima a nostra amministrazione abbiamo creato le borse lavoro in discussione in accordo anche con le associazioni di categoria borse lavoro con taglio di politiche sociali proprio come ho sentito prima dove si interveniva nei casi difficili bene dal confronto del tavolo attività produttive dal confronto con la associazione di categoria durante i bilanci previsionali hanno detto così non funziona perché noi abbiamo bisogno di gente che qualcosa sappia fare non basta solo che voi ci mettiate dei soldi perché sono indirettamente noi dobbiamo metterci del personale che paghiamo per seguire proprio perché ci creiamo importante anche se non obbligo istituzionale quello che dicevo prima il tema lavoro abbiamo voluto seguire questo tema presente più volte nel tavolo attività produttive e abbiamo dato l'esempio nel bilancio previsionale stanziando i fondi a bilancio per un fondo di buona occupazione perciò non di carattere di socioassistenza di politiche sociali ma di occupazione vera logicamente quello è un tassello di un fondo a cui abbiamo inoltrato la richiesta di collaborazione di implementazione a vari altri partner c'è un regolamento siamo in attesa di risposte da questo punto di vista ecco questo dato oggettivo chiarezza su quello che è stato detto tema lavoro dato oggettivo e chiarezza sul termine sul tari sulla tari lo sapete tutti l'abbiamo già detto più volte che vi è obbligo di legge di copertura di raccolta di smaltimento in base ai costi vi è un obbligo di legge di formulazione di un piano finanziario dove ci stanno ci vengono dati anche i paletti e i punti ed è quello che noi dobbiamo formulare ed è quello che noi andiamo a dividere sui cittadini non usiamo non andiamo a fantasia su questo aspetto qui ma nello stesso tempo pur rispettando le norme di legge pur rispettando il tema di piano finanziario tari che andremo a rifare l'avremo già rifatto se fosse già partito il nuovo appalto cioè nonostante adesso andremo a lavorarci in previsione del bilancio previsionale ma ciò nonostante pur rispettando le normative via dicendo abbiamo una serie di agevolazioni che tanti comuni di mitrofi non hanno abbiamo una serie ed è stato implementato in modo importante di fondo compensativo che altri comuni non hanno questo va anche visto in un'ottica globale di gestione finanziaria dell'atari opere pubbliche quando si parla di opere pubbliche bisogna anche guardare al di là dei fondi che si chiedono cambi di bandi e poi torno e via dicendo ma se guardiamo a fondi propri ragioniamo onere di urbanizzazione principalmente fondi propri bene io credo guardando il bilancio perciò dato oggettivo mai come in questi anni e mai come quest'anno sia bassissima la quota di onere di urbanizzazione destinata a parte corrente l'obiettivo di azzerarla ce l'abbiamo ancora entro fine anno vuol dire che tutto quello che in realtà porta l'onere va a investimento anche qui e lo dico con molto rispetto perché questo è stato uno di tanti segnalamenti che ho avuto dal sindaco che c'è una continuità e va sempre analizzato di volta in volta però se guardiamo diversi bilanci indietro così non è stato per l'utilizzo degli onere di urbanizzazione bandi e termino ne uso due salita a orti non entro in tutte quelle discussioni però per che venga analizzata correttamente la discussione c'è un tassello che qui non è saltato fuori e si è dimenticato che a monte vi è rumbando con determinate regole e con determinati punteggi anche macro che determinavano una classifica dopodiché come tutti i bandi o si utilizza o non si utilizza se si utilizza si utilizza quello che è richiesto dal bando e quello che è la finalità del bando non si possono utilizzare da altre parti in ultimo vengo al bando periferie che è quello credo più importante noi ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci perché riteniamo che sia un bando che per le caratteristiche originarie della normativa di legge dove richiedeva un binomio riqualificazione urbanistica e riqualificazione sociale è il massimo perché si sposano perfettamente pertanto è un bando che non è stato solo per far titolo sul giornale ma è un bando in cui è stato studiato e aveva tutte queste caratteristiche peccato che poi l'esito è andato su altri aspetti dove altri comuni hanno preso anche visto finanziati altri due o tre bandi cioè due o tre progetti chiedo scusa termino ci crediamo che entro il 20 settembre scorso perciò pochi giorni fa l'abbiamo ripresentato altra finestra speriamo e questo mi unisco a chi ha fatto l'osservazione ecco che purtroppo stiamo assistendo che a volte i bandi non basta vincerli perché a volte anche se i bandi vinti poi vi è sempre il governo che annulla la vittoria di questi bandi e in questo momento vi sono delle città che si trovano dei bandi periferia vinti a cui gli sono stati tolti i soldi grazie assessore non ci sono più dichiarazioni va bene quindi pongo allora in votazione delibera numero 5 la proposta numero 5 su cui si dovrà poi anche votare l'immediata eseguibilità quindi segnaliamo la presenza dovremmo essere in 13 stanno arrivando c'è venire che sta arrivando allora quelli che ultima chiama come fanno alla camera è al senato ultima chiama è vero va bene possiamo votare votazione chiusa delibera approvata con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari passiamo adesso all'immediata eseguibilità dovremmo essere in 14 vero sindaco va bene 14 va bene possiamo votare sì proclamiamo il risultato 10 voti favorevoli 3 contrari e 1 astenuto ma mi pare che il consigliere marengo volevo solo ratificare il mio voto e un lapsus e ho sbagliato pulsante grazie quindi il mio voto è negativo l'inconscio suggeriva l'inconscio suggeriva la stensione ma il super ego ha risposto con va bene il super ego quindi si intende voto contrario va bene va bene grazie della discussione andiamo avanti passiamo alla proposta numero 6 qui andiamo avanti di nuovo con gli acronimi e le sigle poi ne arriveranno le altre dopo oggetto bilancio consolidato gruppo amministrazione pubblica GAP una volta i GAP erano un'altra cosa comune di Bra esercizio 2017 approvazione illustra l'assessore Fogliato sì grazie è una delibera veramente tecnica perciò mi chiederò scusa ma sicuramente qui sarò molto noioso nel senso che un anno fa abbiamo fatto la prima approvazione del bilancio consolidato del comune di Bra non è mai una delibera fatta in un modo che poi non non cambia in quanto la normativa prevede che ogni anno dobbiamo fare la ricronizione e e dobbiamo in qualche modo definire il perimetro del gruppo di amministrazione pubblica e poi di conseguenza anche il gruppo di coloro delle società il cui bilancio viene consolidato ritengo che sia utile cercando di essere più caro possibile di richiamare solo un attimino i criteri per cui siamo almeno di base che caratterizzano l'obbligo di non escludere da immettere delle società nel gruppo di amministrazione pubblica allora la prima cosa è il fatto che abbiano una partecipazione pubblica il secondo che questa la parte cioè il dato di bilancio la partecipazione abbia un aspetto significativo nel nostro bilancio ecco non sia prima si diceva meno del 10% questo da quest'anno si è modificata è il 3% e il terzo il terzo aspetto è che in ultimo è necessario includere società sul quale si esercita un controllo analogo o che si svolgono affidamenti diretti e qui è il caso della chiamiamola new entry cioè la società che abbiamo fatto entrare quest'anno nel gruppo amministrazione pubblica in quanto la STR perché in base al nuovo bando rifiuti e al vi sono dei affidamento lavori in ausa cioè che farà direttamente l'STR è vero che forse quest'anno non avevamo formalmente anche giuridicamente l'obbligo sicuramente il prossimo anno però abbiamo ritenuto che oltre al coapse oltre la SIR di includere anche l'STR nella sostanza consolidare è quello che un po' io ho dei colleghi anche che con me vivono l'aspetto dell'analisi dei bilanci in banca è nient'altro che vedere i debiti e i crediti reciproci ecco snellire da quel punto lì e portare a un bilancio a un bilancio unico ecco questo proprio con un discorso terra a terra ecco poco professionale però che cosa è il tema del bilancio consolidato grazie all'assessore non vedo un grande entusiasmo su questo argomento se non ci sono interventi pongo in votazione è andato a far provviste per il viaggio magari e oltretutto mangia pure qui sotto i nostri occhi no stavo dicendo che se non no anche beneficio suo che è appena entrato se non ci sono interventi su questa delibera numero 6 io porrei in votazione il testo va bene non ci sono interventi poi allora qua 13 siamo in 13 siamo in 13 va bene e si può votare votazione chiusa delibera approvata con 6 voti a favore e 4 voti è vero il 9 è il contrario di 6 9 voti a favore e 4 voti contrari sto cominciando a averle tra leggole allora ha ragione le sigle qui si sprecano siamo alla proposta numero 7 fusione per incorporazione della partecipate SIPI società intercomunale patrimonio idrico e di CIAR società intercomunale impianti acque reflue INSISI SRL società intercomunale servizi idrici manca solo l'ISIS approvazione e illustra l'assessore fogliato nel mese di settembre dello scorso anno il consiglio si pronunciò sul piano di revisione straordinario delle partecipazioni dell'ente sulla scorta del testo unico delle società partecipate pubbliche il cosiddetto decreto Madia l'assemblea si pronunciò per la dismissione della partecipazione nella società Fingranda e per un superamento della SIAR la SRL che ha acquisito il patrimonio del consorzio che venne creato tra i comuni di Bra e Pocapaglia per la realizzazione degli impianti fognari nella parte alta della città nelle frazioni San Michele e San Matteo oltre che nell'America dei Boschi se la Fingranda ha avviato nel mese scorso suo processo di formale liquidazione la SIAR sta concludendo l'operazione di rendicontazione dei contributi regionali che hanno permesso di realizzare le opere pubbliche e oggi coglie un'ulteriore opportunità quella di far confluire il suo patrimonio all'interno della Sisi la società intercomunale servizi idrici che ha sede ad Alba e che gestisce il depuratore consortile di Govone è in atto un processo di progressivo accorpamento delle società che operano in ambito idrico in ossequio al principio previsto dal decreto Madia che prevede che gli enti possano possedere un'unica partecipazione nelle società che svolgono medesime funzioni ed è in questo ambito che rientra anche la partecipata Sipi società nella quale il nostro comune è presente con una quota del 2,43% che svolge la funzione di garantire la proprietà degli impianti di adduzione e operativi del collettore consortile nei mesi scorsi i consigli di amministrazione delle tre società si sono pronunciate a favore di una soluzione che salvaguardasse il rispetto del decreto Madia e facesse convergere le quote dei soci di Siar e Sipi in Sisi per effetto di un nuovo statuto della Sisi che stabilisce di determinare il peso e il ruolo all'interno della società sulla base del numero degli abitanti dei comuni soci al 31-12-2016 il nostro Comune si garantisce una partecipazione qualificata all'interno della nuova società attraverso una quota del 20,03% che fa di Bra il secondo socio per importanza all'interno di Sisi dietro ad Alba che avrà il 21,28% se andrà in porto questa operazione oltre al vantaggio di non dover moltiplicare gli oneri di amministrazione delle diverse società il Comune di Bra adempia gli obblighi in maniera di sdellimento delle sue partecipazioni semplificandone il quadro complessivo e la governance oltre a divenire socio qualificato in una realtà che sarà sempre più centrale nelle politiche idriche di territorio grazie all'assessore ci sono interventi su questa delibera consigliere Marengo prego solo per la dichiarazione di voto a nome del centrodestra fondamentalmente siamo contro l'Isis ma abbiamo abbiamo deciso questa sera che tutte le altre sigle ci piacciono nel senso ovviamente battute a parte nell'ottica di una razionalizzazione è ovvio che non si può essere contraria a un provvedimento di questo genere quindi il centrodestra voterà convintamente a favore grazie grazie al consigliere Marengo consigliere Paniero prego sarò ancora più telegrafico per le stesse motivazioni che sono state espresse nella razionalizzazione come gruppo voteremo favorevole a questa proposta di delibera grazie grazie al consigliere Panero sindaco ha chiesto la parola prego a nome della maggioranza intanto ringrazio gli interventi che ci sono stati precedentemente credo che il rispetto delle leggi e nel caso di specie la fusione in un'unica società delle partecipate che abbiamo per quanto riguarda il servizio idrico sia una scelta che prescinde da tutte le scelte del servizio idrico perché comunque è una il rispetto della norma Madia altro elemento è invece la questione delle scelte rispetto al servizio idrico e in ogni caso rispetto al servizio idrico sia che si faccia la scelta dell'inauso sia che si faccia la scelta della società mista comunque si avrebbe bisogno di un'unica società pubblica grazie al sindaco quindi se non ci sono più interventi io pongo in votazione su cui questa delibera su fare la immediata eseguibilità quindi una cosa per volta segnaliamo la presenza dovremmo sempre essere in questa volta siamo in 14 vero? si va bene votiamo votazione chiusa approvata l'unanimità votiamo adesso l'immediata eseguibilità va bene possiamo votare votazione chiusa stesso risultato all'unanimità ci sono passiamo all'ultima proposta la numero 8 ente turismo Langhe Monferrato Roero società consortile a responsabilità limitata approvazione schema di statuto sociale illustra il sindaco allora mi scuso intanto che la riunione della capigruppo a cui ha partecipato Barbero per approfondire questa tematica abbia potuto avvenire soltanto oggi pomeriggio il motivo è molto semplice la settimana scorsa ho usufruito di una settimana di ferie e il testo della regione così come ci ha ben spiegato il dottor Barbero è arrivato venerdì in una tardissima mattinata quindi non più non ero più in grado di fare le convocazioni perché sono andata via lo scorso fine settimana ho avuto un impegno familiare molto simpatico e molto importante di cui ho anche fatto parte nel precedente nel precedente eh sono diventata amore a Madonna adesso adesso lo sono allora intanto ehm si arriva a questa determinazione a seguito di ehm una ehm indicazione da una parte della legge Madia che stabilisce ehm il fatto che debbano esserci dei ehm degli enti ehm con un numero massimo di ehm di ehm partecipanti di consigli di amministrazione e non retribuiti devo dire che ehm il questo tipo di di valutazione è una valutazione ehm che fa parte di un un modo di vedere ehm la ehm il lavoro ehm politico che non condivido però ehm come sempre mi adeguo al testo di legge perché ehm se uno svolge una funzione questa deve essere graduata rispetto alle cifre che vengono percepite ma non credo eh nell'abolizione dei compensi eh nei consigli di amministrazione ehm in ogni caso ehm la ehm normativa la nuova la nuova normativa richiedeva eh che eh ci fossero tutta una serie di adeguamenti che avete visto anche molto eh di questioni molto eh dettagliate ehm l'altro aspetto che quando avevamo a eh luglio eh inizio luglio raggiunto un accordo per quanto eh riguardava il nostro territorio ehm relativamente al all'ente turismo ehm vi è si è eh trovato applicazione la normativa ehm della legge regionale che eh stabilisce eh che eh possano eh funzionare autonomamente eh soltanto quelle ATL che abbiano un volume da pari superiore al milione e in nella regione Piemonte le ATL che hanno queste caratteristiche sono quella di Torino quella di Cuneo 1 e quella per un milione e poche lire e quella di Cuneo 2 che è più piccola di Cuneo 1 e ha un milione e mezzo direi che è anche un elemento di un certo orgoglio per questo territorio avere queste caratteristiche ed è frutto di una scelta ehm condivisa molti anni fa da eh una serie e molto bipartisan che mano a mano è stata ehm mantenuta eh a partire dalla dalle dalle prime gestioni del allora non era ente turismo ehm era una una sorta di associazione di comuni ehm per la la gestione del turismo e da subito ehm credo nel nel 96 97 ehm quando lei era assessora turismo credo consigliere somaglia ehm partì il questa questa idea ehm e poi mh questa idea si diffuse in altre realtà ehm ma soprattutto nel nostro territorio la caratteristica particolare è che vedeva presenti ehm enti pubblici comuni e privati ehm consorsi di produttori di vino piuttosto che ehm consorsi di gestione di ehm ricettività alberghiera eccetera e questo è stato un la una grande è stato molto importante perché ha permesso di ehm di avere eh il turismo come una delle eh attività economiche oggi più fiorenti che impegnano circa settemila posti di lavoro eh sul nostro territorio dai oltre settemila posti di lavoro ehm ovviamente disseminati ehm e frammentati ma è un risultato molto importante risultato che eh ovviamente è differenziato da zona a zona ehm è differenziato eh da città a città ma eh quello che è molto positivo è che il territorio ha saputo in questi anni ehm sempre eh presentarsi compatto ehm alle varie ehm alle manifestazioni importanti eh di promozione perché questo è l'elemento eh che determina il eh uno degli elementi fondamentali che determina lo sviluppo del turismo e vedasi per esempio la presenza ad Expo piuttosto che eh la eh presenza insieme ad altre eh l'accordo con altre ATL in particolare con quella di Tuino per ehm azioni di promozione in vari posti nel mondo in questo momento un gruppo del eh del nostro della nostra eh ATL è presente eh in quattro città eh del Giappone eh per la promozione ovviamente con con interventi mirati vi sarà un intervento molto importante a novembre a New York e via discorrendo eh questo fatto che eh soltanto tre eh ATL eh avessero i requisiti per poter proseguire nella loro eh attività ha determinato il fatto che eh le altre hanno dovuto trovare delle soluzioni di accorpamento eh tra di loro per esempio tutta la parte alta del Novarese dei laghi eh insieme a Biella e Barcelli hanno fatto ehm una un'unica ehm grande ATL e eh per quanto riguarda il nostro territorio vi dicevo appunto a luglio si discuteva della della del nuovo eh regolamento di come dello statuto e eh eh siamo stati eh interessati dal dalla provincia di Asti dal sindaco eh della città di Asti e non solo della città di Asti ma eh di Asti Canelli e altre eh città della provincia di Asti per fare per mh da parte loro hanno dato una disponibilità a eh sciogliere la loro ATL e ad entrare eh all'interno della ATL ehm Langheroero secondo una logica che eh permette di tenere insieme tutto il territorio UNESCO eh ecco perché ehm su questo ovviamente si è eh discusso ehm si è eh discusso sul fatto che ehm eh sia opportuna una promozione ovviamente con eh una serie di eh patti parasociali che tutelino comunque le le situazioni eh pregresse e eh sono a a dirvi che eh il fatto che eh la provincia di Asti metta in liquidazione la propria ATL non comporta alcuna conseguenza ai fini del della nostra eh ATL nel senso che eh i comuni di Asti piuttosto che che la provincia piuttosto che la camera di commercio oppure la fondazione della eh cassa di risparmio di Asti entreranno entreranno come soci ma abbiamo fatto in modo che eh sia nel consiglio di amministrazione e sia eh nel eh come maggioranza si continuasse ad avere una maggioranza di questo territorio eh altro aspetto molto importante è quello che eh la regione Piemonte eh ha eh deciso di entrare con una quota all'interno del eh del capitale eh della della ATL e eh e questa è una scelta eh apparentemente all'inizio non era così stata così facile da digerire l'idea che entri e che entri con eh il 40% circa il 40% è un elemento che in qualche modo può eh però è un modo con il quale si vincola la regione eh qualunque a meno che cambi eh la legge ma deve cambiare la legge eh 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 effettuare il versamento ogni anno e e non aspettare ogni anno che venga fatta una legge sui contributi eh in base alla quota di partecipazione la regione deve versare come eh versano i comuni come versano eh i privati che ne fanno parte ecco allora eh questa modifica che ha comportato una eh modifica anche del nome ovviamente eh è in dubbio che dispiazza eh a me prima che di altri eh Alba Vralang Eroero era il nome sotto il quale eh abbiamo lavorato eh anche molto intensamente soprattutto nel primo periodo di partenza penso agli anni eh 2000 2002 insomma in cui era molto difficile far partire le varie parti e fondamentale fu eh l'aiuto di eh persone eh molto eh autorevoli come l'allora presidente della fondazione Cassa di risparmio di eh di Cuneo che eh ci aiutò moltissimo eh e eh durante la sua presidenza e credo che che eh però eh anche oggi durante l'incontro con Barbero è emerso che il l'ente si chiamerà ente turismo Lange Monferrato Roero o Lange Roero Monferrato ma con una dicitura sotto delle tre città eh Alba Bra ehm Alba Asti Bra eh oppure invertiamo Bra eh Alba per mettiamo Braultima vedremo vedremo fa parte delle trattative eh fa parte delle trattative che che avremo che avremo giovedì pomeriggio per quanto riguarda la parte dei dei patti parasociali ma credo che in questi anni eh alcuni risultati importanti siamo riusciti a portarli a casa per esempio avere la presidenza eh dell'ente eh per tre volte consecutive eh garantita sul nostro territorio ovviamente questo è dovuto a tanti fattori un elemento di battaglia eh di discussione di battaglia e anche ad una capacità del dottor Barbero di poter di svolgere la funzione che gli competeva eh però in nove anni insomma credo che eh non ci sono state eh altre presidenze così lunghe non e continueranno ancora credo che continueranno ancora credo che ehm sia importante eh prendere atto di questa eh di questa novità che certamente ehm cambia alcuni aspetti all'interno del del della struttura per rispettare eh la nuova normativa ma ha alcuni elementi eh certi di continuità la sede è ehm ad alba in eh piazza d'uomo e e la direzione resta ad alba in piazza d'uomo e quindi questo da parte eh di Asti è stato un elemento eh importante di accettazione eh di 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 chi in questi anni ha saputo eh svolgere certe funzioni e eh del prendere atto che ovviamente noi auspichiamo eh che eh possa eh essere l'avvio di una nuova fase di promozione con eh ancora eh maggiori fondi e con un territorio eh che ha caratteristiche molto simili che può essere lanciato nel mondo grazie al sindaco consigliere Mare prego solo velocissimo per la dichiarazione di voto i tempi però sono sospetti sabato scorso si sposa il figlio del sindaco e il sindaco poi va in fe non è che è andato in viaggio di nozze con loro no ah ok perdonate la battuta è tardi siamo stanchi sarebbe stato il primo caso nella storia li svegliava al mattino con con una delibera da da approvare scherzi a parte perdonerete la battuta ehm due considerazioni velocissime di merito e di metodo eh nel merito non entro perché sicuramente questo è un elemento che eh non può che trovare un favorevole accoglimento presso credo tutti i consiglieri braidesi dispiace certo dal punto di vista eh affettivo abbandonare un un certo per una nuova diciamo una nuova denominazione ma questo non è così così importante quindi il mio voto sarà sicuramente favorevole eh una nota invece per quanto riguarda il metodo l'ho accennato il sindaco prima eh e sulle convocazioni nel senso se è arrivata all'ultimo minuto il sindaco non poteva bra ha un vice sindaco bra ha degli assessori eh si poteva lo so se il vice sindaco sta lavorando ci sono però degli assessori insomma io credo che un po' di fiducia in questi giovani virgulti dovrebbe dargli la signora sindaco non se lo meritano però sono bravi ragazzi gliela dia questa fiducia ecco questa è questa è diciamo una considerazione che voglio mantenere su un tono scherzoso perché siamo arrivati ad un'ora tarda e ovviamente il fatto che credo saremo tutti d'accordo nella votazione però non inficia il fatto che eh spesso e volentieri si arriva sempre all'ultimo minuto con documentazione all'ultimo minuto non c'è questa sera il collega all'Asia piace a me fare la parte dell'Asia della situazione però è così eh non si può se ci fosse stata un argomento eh all'ordine del giorno da eh come dire da discutere da sviscerare magari anche con qualche negatività da parte di qualche consigliere non si avrebbe avuto veramente il tempo per poterlo fare quindi credo che per i prossimi mesi che restano questa consigliatura eh il fatto che il sindaco sia impedito beata lei perché si è giustamente goduta qualche giorno di vacanza non possa far sì però che l'attività amministrativa venga interrotta in questo modo quindi lascio da parte il metodo ribadisco invece che nel merito in questa delibera trovo assolutamente il mio accoglimento quindi voterò più che favorevolmente eh al testo proposto grazie grazie a lei consigliere battuta per battuta il sindaco è diventato suo c'era in piemontese è diventata more madre anche se vabbè more madre e il e il vice sindaco era ed è impegnato a terra madre quindi gira che ti rigira le donne sono sempre al centro del mondo eh questo lo dico senza che qui lo vedo del tutto imparziale bene era fuori tema bravo grazie era fuori tema ma ho raccolto la battuta consigliere Ferrero prego solo per alcune considerazioni eh seguenti al capigruppo che è venuta alle tre e durante la quale prima il sindaco ha spiegato bene la questione e poi il presidente Barbero ha approfondito alcuni aspetti direi di eh notevole importanza c'è uno la cosa che ha già detto il sindaco questa è una richiesta della provincia di Asti di aderire all'ATL Alba Bral Angeroero per mancanza di requisiti propri seguenti alla legge Madia per mancanza di fatturato annuo e riporto qualche appunto che mi sono preso dalle parole che del del presidente dove dice che eh Asti eh nella richiesta di aderire alla nostra ATL eh dice noi non chiediamo nulla chiediamo perché in quanto siamo omogenei come territorio come attività turistiche tutte siamo omogenei a voi non chiediamo nulla eh chiediamo solo di eh di venire trattati eh nello stesso modo in cui eh state funzionando oggi aggiungete anche noi mettiamo i i soldi di nostra competenza eh li mettiamo eh e direi cioè non c'è stata una discussione di pretese di eh posti o c'è tanto è vero che è stato assicurato che la governance di questo eh nuovo ente allargato è composta di eh sei eh cinque 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 scusate di cui uno uno della regione uno della provincia di Asti e tre però in capo ad l'attuale Alba Asti quindi bra perché Alba Asti bra bra quindi di fatto scusate l'Apsos è garantito è garantito che eh l'attuale l'attuale i componenti dell'ATL eh Alba avrà avrando la maggioranza del consiglio di amministrazione quindi credo questa sia una notevole garanzia eh fin quando nel tempo qualcuno rivedrà le cose comunque attualmente è una grossa garanzia eh la regione per quanto ci han detto eh ha chiesto anche di entrare con proprio capitale dentro la nuova associazione arrivando fino a a mettere nel capitale eh una quota del 40% quindi pare che eh per tutto quanto è stato esposto le condizioni di eh di questo accorpamento eh possano essere eh tutte positive per l'attuale composizione che si allargerà grazie grazie a lei consigliere Ferrero aveva chiesto la parola il consigliere Somaglia prego grazie presidente cercherò sarò sicuramente breve beh intanto questo è uno di quegli argomenti che interessano al nostro territorio sui quali abbiamo ricordato prima non possiamo che essere eh attivamente partecipi di portare il nostro contributo poi per me è un ricordo mi ricordava il sindaco passato ritorno ancora adesso nel 96 quando ci trovavamo la prima volta con Giacomo Vero nella negli scantinati del ristorante eh non voglio fare pubblicità quindi anche perché non ricordo il nome di Cinzano e eh simulizzata no no l'altro ma non ho l'altro dall'altra parte ma questo mi sono che ho cambiato un po' di risultato e che si 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 però è stata una scelta è stata una scelta di centro di territorio il turismo ormai è una delle attività economiche preponderanti della nostra zona anche per fare un risultato economico e oggi provarci a discutere e parlare il turismo non può che essere importante oggi ci troviamo a votare una delibera che riguarda un aspetto amministrativo esclusivamente amministrativo che è il nuovo statuto diciamo proposto, quasi imposto dalla regione questa riforma strutturale del turismo l'altro aspetto è un aspetto di programmazione politica di uno dei settori dicevo prima economici di territorio che riveste ormai un'importanza primaria per la nostra zona è un aspetto che un territorio importante come territorio schegiato un territorio che come il nostro come le langhe eroero sono territorio dell'UNESCO non fa che accrescere l'importanza di un ente che oggi non perde nulla anzi si accresce come importanza amministrativa e di importanza economica lo abbiamo detto oggi in conferenza dei capigruppo il fatto di perdere le denominazioni delle città un po' dispiace ci ha rassicurato però il presidente è vero che comunque tutta la parte di comunicazione riporterà i nomi delle città ci ha rassicurato poi su altri importanti argomenti ma al di là delle rassicurazioni che abbiamo conto con piacere il fatto di poter fare un ulteriore passo avanti nella programmazione nella gestione del turismo non può che trovarci favorevole ai concordi per cui il nostro voto sarà un voto favorevole grazie 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 subito un voto di astensione lo spiego velocissimamente dal consigliere comunale veramente con i tempi così stretti non mi sento di poter condividere al pieno il turismo che di noi non condivide e non ammette che negli ultimi anni e volvo anche l'occasione per complimentare anche per il lavoro del dottor basvero il turismo avrà e le zone di lì si è cresciuto ma i tempi così stretti non mi danno la possibilità di votare da consigliere comunale questi documenti perché come tutti i consiglieri comunali ovviamente per votare il consiglio comunale cosa delle libere con degli allegati di questo tipo di decine di pagine mi sento sereno di poterlo votare senza aver avuto senza aver avuto fiducia sono sicuro che il documento che è stato fatto è nelle buone intenzioni di tutti quello che serve per poter sempre crescere il turismo di Bra e della zona di Bra ma per il volo che copro e per come è stato spiegato già che prima consigliere comunale di proposizione non mi sento di poter così a scatola chiusa così rapidamente così velocemente arrivare ad esprimere un voto favorevole un voto che è favorevole sicuramente per l'iniziativa è favorevole per il documento è favorevole per il turismo è favorevole per fare qualsiasi iniziativa che va a incentivare e a promuovere il turismo faccio una divagazione veloce per chi va in bicicletta nelle langhe mai come in questo periodo è facilissimo trovare un fine settimana pronti i bici di biciclette fatte adesso anche con l'aiuto delle bici assistite che veramente vanno in giro per il nostro territorio per le langhe ferroere o fanno tappa brava fanno tappa d'alba fanno tappa nelle città limitate qualche automobilista non è così contento perché come piace detto più volte di cominciare veramente reciprocamente di avere tolleranza a uno degli altri per queste motivazioni di Panello di condividere pieno tutto quello che è questo progetto esprimerò voto di astensione grazie grazie al consigliere Panello io faccio un intervento anche a sostegno pieno e per dire anche quanto già ha espresso il collega consigliere Pervero per la nostra città si tratta di un'opportunità ma anche di un riconoscimento io ricordo quando l'ubbisio turistico aprì avrà due stanzette dalla mia sinistra dove prima ancora si erano stati i visi rubani tanti anni fa poi dove si avrebbero arrivato i messi gli usieri se non ricordo male arrivavano nel gennaio del 89 o del 90 allora sindaco della Rossa si chiese a Beppe Manassero di provvedere a mettere in piedi ma letteralmente a mettere in piedi di un ufficio turistico io allora seguivo le vicende della città perché erano così corrispondenti locale il giornale della Diocesi iniziamo interessando un po' di giornalismo oltre che la questione politica se la zappa e ricordo che da allora veramente di strada se ne è fatta se ne è fatta davvero molta e poi via via anche nelle amministrazioni di vari sindaci la delega al turismo e alle manifestazioni è stata una delega importante e questo significa che nel giro di 30 anni circa sì 29 o 30 in realtà in qualche modo anche noi abbiamo benedicciato di questo clima di attenzione nel mondo di questo angolo di Piemonte baciato da Dio potremmo dire come siamo del conegno dell'UNESCO è una ricchezza naturale ma anche paesagistica e quindi anche antropica che in queste zone oggi si si respira diciamo un riconoscimento un'opportunità un riconoscimento perché di strada l'abbiamo fatta molte abbiamo collaborato sempre anche con gli arvesi e opportunità perché questo permette interiormente di inserirsi all'interno dei più vasti circuiti anche grazie all'iniziamento della regione Piemonte sotto il capello possiamo dire così andremo ad assumere anche noi le nostre iniziative a contribuire ulteriormente al rilancio del nostro territorio come già stato detto anche da chi mi ha preceduto io farei un invito nel senso che ma sono convinto che lo stesso presidente attuale mi ha parlato in conferenza di gruppo un'ora fa ci sarà la possibilità di valorizzare nel modo migliore possibile anche il nome della nostra città sembrano dettagli minimi ma in realtà per un ente per un'azienda società consortile come vorrà essere la nuova denominata appunto Langhe Monferrato Eroero il fatto che non ci sia il nome di Bradi Alba e di Asti che sono gli ultimi arrivati ma anche loro non avranno il nome e allora io suggerirei di ovviare a questo questo inconveniente chiamiamolo così utilizzando sotto forma di loghi che saranno poi realizzati nelle manifestazioni nella pubblicità nelle iniziative utilizzando dovunque sia possibile un richiamo diretto alla città di Bra mi pare che questo sia giusto chiedere e mi pare anche che debba essere tenuto in conto da chi poi all'interno dei patti parasociali di cui parlava il sindaco prima sarà chiamato a organizzare poi da un punto di vista pratico e quotidiano il lavoro di questo ente che va a nascere non appunto da zero ma valorizzando tutto quanto di positivo è stato fatto in questi lunghi anni da Alba da Bra e quindi valorizzando un intero territorio ecco questo con queste richieste con queste precisazioni ribadisco il voto favorevole da parte della maggioranza non dimenticando di così ma anche questa è una battuta storicamente lo sappiamo la rivalità tra Alba e Bra ma storicamente la rivalità era ancora più accesa tra Asti e Alba il paglio di Alba è nato in disprezzo agli albesi perché gli astigiani avevano il loro paglio con i cavalli quindi Alba ha messo il paglio con gli asini per spregio e noi invece storicamente la città di Bra dipendeva da Asti anche perché nella logica di quelli che sono in difficoltà è sempre più facile dipendere dalla città più lontana rispetto che da una città più vicina insomma il padrone diciamo così Asti era molto più lontano e pertanto forse forse era più facile anche aggirare nelle volontà le leggi le regole le norme acqua passata anche se anche se noi ci teniamo a veder mantenuto anche il contributo che la nostra città come giusto ha dato in questi 30 anni quindi grazie prego è proprio una battuta a questo punto ci resta solo da organizzare a Bra un paglio dei muli restano gli unici quadrupedi equini o zebra però zebra io sarei favorevolissimo credo anche qualcun altro ma per non aspettare nessuno un paglio dei muli potrebbe essere invece una buona soluzione giusto per allinearci alle altre città abbattiamo i muri e facciamo correre i muli potrebbe essere uno slogan va bene non ci sono più interventi no? ci sarà anche qui l'immediata eseguibilità però procediamo con ordine si può votare va bene allora approvata con 13 voti favorevoli e un astenuto passiamo all'immediata eseguibilità votazione chiusa stesso risultato 13 voti favorevoli e un astenuto prima di sciogliere il consiglio ho chiesto la parola un attimo di pazienza prego consigliere grazie sono a fare una comunicazione che riguarda la mia attività come consigliere comunale quindi se avete ancora un minuto due parole mi faceva piacere appunto rivolgervele perché e correggetemi se vado errato ho deciso di presentare nei prossimi giorni giusto le mie dimissioni in modo tale da dare tempo agli uffici di lavorare di preparare i documenti necessari ok detto questo sì diciamo che l'intervento di due consigli fa del consigliere all'asia mi ha fatto un po' pensare rispetto all'attività degli ultimi mesi vi volevo però raccontare che cosa faccio perché oggi ho pronunciato insomma queste frasi due anni fa no due anni fa gennaio scorso sono stato selezionato per un master totalmente finanziato da Intesa San Paolo e Cisco per formare delle persone che si occupassero di trasformazione digitale per le imprese del made in Italy e quindi per portare quello che ormai è un trend che è diventato fondamentale per tutte le aziende del tessuto economico mondiale che in Italia è ancora più fondamentale perché siamo effettivamente parecchio indietro formare delle persone che portassero delle metodologie delle tecnologie dei concetti all'interno del tessuto produttivo italiano dopo sei mesi di formazione nel quale ho avuto la fortuna di la farò brevissima giuro ho avuto la fortuna di lavorare anche con aziende molto importanti del settore produttivo italiano mi è stata offerta la possibilità di iniziare a lavorare con la start up italiana che è la più importante start up italiana tuttora sul mercato che si chiama Talent Garden Talent Garden è una rete internazionale di co-working di spazi di co-working che come dire fa lavorare insieme solo professionisti che si occupano di innovazione digitale sta crescendo quest'anno ha aperto Vienna Dublino San Francisco entrò il prossimo anno con un'operazione di cassa depositi e prestiti ed è particolarmente interessante perché l'amministratore delegato ha 28 anni come me e per me è stata un'offerta irrinunciabile io nello specifico mi occupo di tutta la nostra parte di consulenza e formazione sulla trasformazione digitale per i manager di molte corporate italiane con i quali stiamo facendo un lavoro di cambio di mindset e di lavoro su nuovi modelli di business innovativi che possano innovare il sistema produttivo italiano e dare un futuro a pezzi delle nostre aziende di cui ne abbiamo di cui ne abbiamo un disperato un disperato di bisogno credo che questo tipo di lavoro sia la via italiana all'innovazione perché forze capacità e soldi per fare l'innovazione alla Silicon Valley quindi start up totalmente digitali per noi è difficile non abbiamo i capitali convincere invece le aziende del nostro tessuto produttivo a investire in questo settore è l'unico modo che abbiamo per giocarci questa partita e faccio un passo ulteriore nel senso che il mio ruolo fino ad oggi e quello che continua ad essere il vostro questo si può dire o andiamo subito ai problemi di documenti e il vostro che sarà domani e poi insomma negli anni a venire è particolarmente importante perché vi consiglio di leggere un libro bellissimo che è il capitale del ventunesimo secolo di Thomas Piketty che dice come il futuro del come il diciannovesimo secolo sia stato quello degli stati nazioni il ventesimo secolo sia stato quello degli agglomerati e il ventunesimo secolo sarà sicuramente quello delle città vi consiglio di leggere un altro libro ancora bibliografia finale che normalmente si fa alla fine la bibliografia degli interventi che si chiama la nuova geografia del lavoro di Enrico Moretti che è stato consigliere economico insegna Berkeley e a Bologna non riusciva nemmeno a fare l'associato di economia ma questa è un'altra storia e dice di come le città diventeranno sempre più strategiche nel tessuto produttivo e nella crescita delle nazioni ma con una linea di attenzione nel senso che provate a immaginarvi gli agglomerati di città come dei nodi di una rete come dei pallini e le relazioni che riescono a instaurare tra loro e all'esterno come dei collegamenti che si creano e si distruggono questi collegamenti non rimangono mai tali ma bisogna impegnarsi o per farli non rimangono mai tali o crescono o diminuiscono teoria delle reti bisogna impegnarsi perché crescono perché se non crescono sicuramente stanno diminuendo ed è molto più facile e farli crescere impegnandosi nei verticali specifici che quel determinato territorio ha ha fatto così la Silicon Valley ha fatto così i territori che in questo momento si stanno sviluppando più fortemente e la nostra città ha un verticale sicuramente impattante interessante da tenere in considerazione lo lascio un po' come si dice come testimone che è quello dell'enogastronomia l'enogastronomia deve essere il nostro tema con il quale cambiamo radicalmente quello che sarà la città non nella prossima legislatura ma da qua a 25 anni perché la sfida è quello e in questo luogo bisognerebbe parlare di come questa città sarà tra 25 anni anche non solo la sfida è questa e abbiamo provato a giocarla ad un certo punto una delle mie principali attività purtroppo con non troppo successo è stata quella di provare a costruire un programma di accelerazione di incubazione per start up del food abbiamo coinvolto ovviamente insieme a tutti i miei colleghi ex ministri imprenditori di primissimo profilo da Riccardo Donadon di Hfarm piuttosto che imprenditori anche del territorio che sono stati super disponibili ovviamente le nostre le nostre realtà accademiche sul territorio poi come tutti i progetti non sempre si trova la chiave giusta per far avviare il motore ma la nostra partita sono rimango convinto e spero che e spero così che che si tenga mente nei prossimi mesi di questa legislatura chiunque ci sarà ci sarà dopo tenga mente questo ragionamento se abbiamo una possibilità di farcela è investire fortemente nell'innovazione abbiamo una fortuna sterminata abbiamo studenti internazionali abbiamo imprese del settore dobbiamo diventare un hub dobbiamo diventare un punto un agglomerato di innovazione nel settore dell'inogastronomia ed è la nostra strada un po' scritta in precedenza e secondo me l'unica che abbiamo per il futuro per diventare ancora meglio di come siamo di come siamo oggi è un pezzo di questa strada l'ha scritta Sdufude e altre associazioni imprese che hanno lavorato in questo territorio cioè troviamo un pezzo di terreno veramente fertile veramente veramente interessante lato mio ovviamente metto a disposizione quella che è la mia intelligenza attuale e futura a chiunque voglia abbia la necessità di qualsiasi tipo di connessione elemento piuttosto che aiuto piuttosto che insomma quello che dovrà essere per far sì che l'innovazione diventi uno dei motori trainanti di una realtà locale sia chiaro sicuramente non sono non ripeterò mai il luogo comune delle Silicon Valley perché ce n'è stata una è difficile farne altre ma invece è facile mettere a fattore comune un pezzo di imprese un pezzo di know-how un pezzo di giovani menti un pezzo di pubblica amministrazione di policymaker insomma un pezzo di territorio che già è fortemente orientato in un settore e farlo diventare qualcosa che giova effettivamente giova veramente ancora più fortemente di come sta già facendo a quello che è un sistema paese che ha fortemente bisogno di piccole realtà che si organizzino e che diventino trainante per i suoi settori strategici e questo lo è e questo lo è fortemente tanti attori ci stanno provando non ci stanno riuscendo perché forse ci stanno provando a Milano e forse invece territori come il nostro magari potrebbe essere un bel proposito di un nuovo ente che è turistico ma non solo si mette che mette a fattore comune tutto un territorio come questo diventare il motore dell'innovazione perché sia chiaro è l'unica leva che abbiamo per giocare una partita nei prossimi anni tutti i paesi extra UE la stanno giocando tutti i paesi UE la stanno giocando e noi forse siamo quelli più indietro quindi è una partita che si gioca a tantissimi livelli si gioca anche a questo si gioca anche al nostro metto a disposizione quello che so fare da qui qui e in futuro chiunque ci sia perché questo possa essere una leva di sviluppo per questo territorio quanto a me è stato un onore essere parte per quattro anni di questo consiglio comunale honest feedback che è una di quelle cose che si dice per fare per fare il linguaggio alla Manzoni un grande manager qualche mese fa mi ha detto bisogna parlare come Manzoni una lingua che gli altri non conoscono mischiata perché così pensano che dici cose intelligenti mi è piaciuta molto come 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 modo per spiegare questa serie di cose no però un feedback che è una cosa che ho imparato ultimamente a fare che migliora di molto le relazioni tra le persone e le organizzazioni e i processi so che forse non è tanto usuale però ormai insomma ci può stare che io lo dia qui dentro ho sempre visto molta passione da parte di tutti e questo è una delle cose che mi porterò sempre dietro persone che senza guadagnarci sostanzialmente nulla lavorano per il bene comune per qualcosa di più grande sempre difenderò magari sicuramente ritornerò anche attivamente in un futuro difenderò la politica e quella più piccola per me ha sempre solo dato un buon esempio e questo è parte buona dell'unice feedback l'altra parte è un po' quello che dicevo prima abbiamo bisogno che contesti come questi alzino lo sguardo in un periodo in cui lo sguardo non lo sta più alzando nessuno abbiamo bisogno anche di piccole scelte strategiche che facciano una strategia più ampia è bello parlare un'ora e mezza delle emozioni facciamo sì che in ogni emozione futura ci sia un pezzo di next step cosa si può fare da domani che non sia una lettera spedita a qualche ministero è il più grande passo che possiamo fare per cambiare forse un pezzettino di quello che si fa in meglio ripeto è stato un grandissimo onore vi ringrazio della collaborazione del lavoro comune e insomma vi giuro che non sono così emozionato da parecchio tempo e so che chi prenderà il mio posto continuerà con lo spirito di di quello che per un pezzo ho fatto io spero di aver lavorato bene con voi che possiate avere un bel ricordo professionale politico di me in questi anni grazie a tutti buon lavoro da qui a proseguire grazie al consigliere Bergesio per la sensibilità e anche per l'educazione che ha dimostrato volendo annunciare prima di quando effettivamente le dimissioni avranno corso le dimissioni saranno irrevocabili nel momento stesso in cui saranno ricevute su dichiarazione scritta ma prima più che un saluto da Dio mi permetti Alberto mi sembrava più una sorta di un discorso di investitura o di elezio magistralis quindi grazie per questa innanzitutto questa fiducia verso l'avvenire che la tua età permette io ti ricordo quando eri consigliere comunale dei ragazzi e tu adesso lavori in una società che si chiama Talent Garden e se permetti questa battuta io ti ho conosciuto quando tu eri in una sorta di kindergarten come dicono in Germania il giardino dei bambini eri un ragazzino poi ti ho conosciuto a scuola perché sei stato mio allievo per qualche mese e poi dopo ci siamo rincontrati perché la politica locale ci ha riavvicinato io a nome di tutto il consiglio comunale ringrazio di questo tuo saluto così emozionato e ti fa onore ti fa onore anche il fatto di aver con il tuo gesto con le tue dichiarazioni anteposto in qualche modo il bene della città perché mentre tu giustamente persegui il tuo futuro il tuo lavoro e la tua professione ti sei reso conto che non potevi più continuare a svolgere il servizio dico servizio di consigliere comunale come nei modi nella misura in cui avevi iniziato a farlo ormai quattro anni fa quattro anni e mezzo fa quindi grazie per aver ancora una volta messo di fronte e messo al primo posto l'opportunità che il consiglio comunale avesse un consigliere che potesse effettivamente dedicarsi con energie che tu non potevi avere non perché ti era improvvisamente passata la voglia ma perché lavori a centinaia di chilometri di distanza e pertanto le due cose erano diventate incompatibili quindi come tu giustamente hai già detto il consiglio comunale si dovrà convocare entro in una volta dieci giorni dalla comunicazione delle dimissioni del consigliere questo per la surroga e poi sì dal giorno della presentazione al protocollo delle dimissioni scritte quindi da lì decorreranno dieci giorni oltre i quali non si potrà andare per surrogare il consigliere comunale che subentrerà quindi con la segreteria con gli uffici il consigliere Bergesio si potrà coordinare e raccordare e io interpretando penso il pensiero e i sentimenti di tutti ringrazio per aver lavorato in questo consiglio comunale della tua città per aver in qualche modo realizzato alcune tue iniziative e ti auguro ti auguriamo veramente un futuro professionale ricco di soddisfazioni certamente non è che non è il saluto insomma dire finale non vai nella legione straniera mi pare non parti per la guerra insomma comunque potremo collaborare magari in altre forme però ti prendiamo in parola l'hai detto eh sarò disponibile quindi sicuramente ci sarà la possibilità quindi no del Toro lui è del Toro ma ah Milano è vero è vero bene il consiglio allora si chiude qui grazie e buonasera a tutti grazie 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 a tutti